Fratelli e sorelle del Signore, questa sera voglio parlarvi del modello della Chiesa che ci presentano le Sacre Scritture. Voglio parlarvi appunto della Chiesa dei fatti apostolici, appunto perché è il modello della Chiesa da imitare. Questo argomento è importante perché come stiamo vedendo in questi giorni o già da tempo è sempre stato così, tutti tendono, molti tendono a identificarsi con un gruppo di credenti, tendono a cercare quel gruppo più o meno famoso, quello riconosciuto dallo stato, quello che ti soddisfa meglio e si cerca appunto un modello di Chiesa, un'etichetta insomma, una etichetta, si cerca un'etichetta perché uno, molti sentono il bisogno di avere un'etichetta, altrimenti non sono identificabili, altrimenti non si sentono parte di nulla e di niente. Ebbene, noi oggi parliamo di questo, se noi dobbiamo cercare un modello a cui dobbiamo assomigliare, a cui ci dobbiamo rifare, le Sacre Scritture ci presentano anche questo tipo di modello, non ce ne presentano altri, ma questo modello dei fatti apostolici, degli atti degli apostoli. Il libro degli atti è un libro storico, è un libro che prosegue ai fatti che sono successi nei Vangeli, dove si parla appunto della vita, nascita, vita, predicazione iniziale dell'Evangelo, la scelta dei dodici apostoli e poi la morte di Gesù. Qui comincia la nascita della Chiesa, con la predicazione dell'Evangelo da Giovanni Battista in poi inizia la predicazione dell'Evangelo, che continua dopo la risurrezione di Gesù, abbiamo quindi il movimento della prima Chiesa. E quindi noi che vogliamo sapere, ma a chi devo assomigliare io? Il mio gruppo a cui faccio parte? A che cosa? Qual è il modello a cui bisogna attenersi? Ebbene, lo vediamo negli atti degli apostoli, non c'è un altro modello che le Sacre Scritture ci presentano, ma ce n'è uno solo, quindi non sono né i calvinisti, né i riformati, né i pentecostali, né niente. Noi possiamo esaminare quei gruppi e vedere quello che hanno detto di buono, è quello che hanno detto di sbagliato, va bene, questo si può esaminare. Però alla fine quello che conta è che noi con chi ci dobbiamo identificare? Perché purtroppo alcuni non riescono a vivere la loro vita cristiana, diciamo, serena, se non riescono a identificarsi con un gruppo accertato. Accertato da chi? Dalla storia, dagli uomini o da Dio? Noi dobbiamo, se abbiamo bisogno di questo, e ne abbiamo bisogno, dobbiamo identificarci con la Chiesa apostolica, con la prima Chiesa, con tutti i problemi che avevano, con tutte le difficoltà, con tutte le questioni che c'erano, con le persecuzioni e tutto quello che c'era. Ma noi dobbiamo tendere a assomigliare, dobbiamo dire che noi facciamo parte di quella Chiesa, noi dobbiamo essere il proseguimento di quella Chiesa, capite? Quindi noi cerchiamo di collegarci, noi diciamo che vogliamo collegarci nella dottrina, nella condotta, nella potenza dello Spirito Santo alla prima Chiesa. Noi facciamo quello che possiamo fare, noi singolarmente, come gruppo, ma poi ci sono anche delle cose che è Dio che le deve operare, la potenza dello Spirito Santo, i doni spirituali, i doni di ministerio, queste sono cose che le dà il Dio, quindi noi arriviamo fino a dove possiamo arrivare, e poi il resto lo aspettiamo che Dio lo operi. Però è il modello a cui dobbiamo assomigliare, il modello che dobbiamo desiderare, il modello per cui quando siamo in ginocchio dobbiamo domandare qual è questo modello? Questo modello è la Chiesa degli Atti degli Apostoli. Certo, ci sono anche degli errori nella Chiesa degli Atti che poi vedremo, ce ne sono anche, quindi noi cerchiamo di esaminare anche gli errori per non farli, cioè siccome dobbiamo assomigliarli non è che dobbiamo fare gli stessi errori, è chiaro, dove il comportamento, la condotta, l'azione della prima Chiesa, della Chiesa antica, della Chiesa del primo secolo va bene, noi cerchiamo di imitarla. Dove invece hanno fallito, perché hanno anche fallito, ci sono stati anche dei problemi, degli errori, delle cose da aggiustare, le hanno aggiustate, alcune sì, altre no, ecco lì dobbiamo stare attenti, però ci serve anche quello come esperienza, quindi ci dobbiamo attenere alla Chiesa degli Atti degli Apostoli. Questo cosa ci fa capire? Che noi se vogliamo avere questa identità con la Chiesa dobbiamo studiare gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli non è un libro passivo come Taluni l'hanno dichiarato, perché? Perché raffrontando il libro degli Atti degli Apostoli con la loro Chiesa notano una grande differenza, una differenza abissale, cioè non si assomigliano proprio. Allora cosa dicono? No, la mia Chiesa va bene, è giusta, è apposto. Atti degli Apostoli era solo per quel tempo, Atti degli Apostoli, la prima Chiesa era qualcosa che si doveva, che doveva applicare solo in altri tempi, adesso non è più così. E quindi cosa fanno? Ritengono il libro degli Atti degli Apostoli uno specchio su cui non si devono specchiare, invece no. La Chiesa di tutti i tempi deve sempre specchiarsi con la Chiesa antica, con la Chiesa degli Atti degli Apostoli, quindi noi per avere coscienza profonda di queste cose cosa dobbiamo fare? Dobbiamo studiare Atti degli Apostoli, lo dobbiamo studiare bene, non una volta, ma molte volte, perché tutto quello che c'è in Atti vi deve penetrare nel cuore, non se ne deve andare più, vi darà una fede, una certezza sulla vostra identità e sul gruppo che voi dovete frequentare, vi darà una tale certezza che altre cose non ve le possono dare, capite? Se io devo parlare della salvezza, vado sui Vangeli, vado sui Romani, vi spiego, leggiamo le cose che riguardano la salvezza, quello che ti dà la certezza di essere salvato come persona, ma se noi dobbiamo dire, ma adesso a quale gruppo devo appartenere? Adesso io come Chiesa che cosa sono? Allora in quel caso dobbiamo guardare Atti degli Apostoli, capite? Quindi per chi avesse dei problemi, credo che questo problema me lo sono posto pure io, non è che io non me lo sono posto, ma io a chi devo assomigliare, a chi devo aderire, con chi devo andare? Ebbene devo, intanto devo individuare per poter sapere con chi devo frequentare, con chi devo stare, sono nella verità, non sono con un gruppo buono, un gruppo sbagliato, cosa devo guardare io, io devo guardare Atti degli Apostoli, perché lì la Chiesa Modello, è lì, è lì che ci sono scritte determinate cose che riguardano la Chiesa. E adesso io voglio parlarvi di alcune di queste cose, che vi faranno comprendere come si è mossa la Chiesa Antica e come oggi si deve pure muovere, perché la Chiesa oggi deve assomigliare a quella Chiesa, con tutti i problemi che noi abbiamo, perché noi non è che siamo la Chiesa perfetta, non abbiamo tutti i doni, non abbiamo tutta la potenza dello Spirito Santo, però abbiamo un obiettivo su cui pregare, su cui incinocchiarsi e dire, Signore, questa Chiesa, questo gruppo deve voler assomigliare all'antica Chiesa di Atti degli Apostoli. Pregando così, tutti insieme, con lo stesso cuore, con lo stesso desiderio, ecco che il Signore opererà a suo tempo, quando Lui avrà deciso, ma opererà. E questa è l'opera che come Chiesa bisogna fare. Bisogna pregare per ottenere, per assomigliare, per ricevere tutte quelle cose di cui abbiamo bisogno come Chiesa per assomigliare alla Chiesa antica. Iniziamo subito. Cosa ci dicono Atti degli Apostoli? Prendiamo alcune argomentazioni, così noi si comprenderà, comprenderete, diciamo, quante cose interessanti ci sono in Atti degli Apostoli. Io non so se voi avete già letto Atti degli Apostoli. Chi l'ha letto sicuramente lo dovrà andare a leggere di nuovo, perché è un libro fondamentale, vi fortificherà nella vostra identità di gruppo, vi darà degli obiettivi da raggiungere, che saranno gli stessi obiettivi per tutti noi, quindi quando pregheremo, pregheremo per queste cose che ci mancano, e di mantenere quello che invece abbiamo. Quindi è importantissimo. Il libro degli Atti non è un libro passivo, anzi è un libro eccezionale, un libro straordinario, anche nelle sue debolezze, perché negli Atti degli Apostoli, parlando della Chiesa, il Signore non ha nascosto i difetti, non gli ha nascoste le problematiche, ma ci sono state, li hanno risolte, hanno cercato di risolverle e sono andate avanti le cose. E questo ci incoraggia, perché i problemi non ce li abbiamo solo noi, ma li hanno avuti anche quelli della prima Chiesa, quindi li hanno avuti, hanno cercato una soluzione e poi sono andati avanti. E così dobbiamo fare noi. Un problema singolo lo affrontiamo, un problema di tutta la Chiesa lo affrontiamo e cerchiamo di andare avanti. Così si deve fare? Imitando, imitando la Chiesa, l'antica Chiesa descritta in Atti degli Apostoli. Iniziamo dal parlare. Cosa ci presenta gli Atti? Atti degli Apostoli. Iniziamo a parlare del governo della Chiesa. Eh sì, perché c'è una Chiesa e ci sono anche delle autorità nella Chiesa. Ora vediamo queste autorità, come sono state scelte, come sono state determinate, perché non è che vedremo appunto che l'autorità nella Chiesa, i ministeri, l'ufficio di anziano, di diaconi e altri incarichi non sono stati scelti perché hanno fatto una scuola biblica, perché avevano degli studi, delle lauree, perché erano figli del pastore, no. Sono stati scelti in maniera particolare e che adesso alcune cose le andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Iniziamo dal capitolo 1 di Atti degli Apostoli. Voi sapete che Giuda lasciò gli undici, lasciò, sì, lasciò gli undici per andare al suo luogo. Quindi gli undici hanno dovuto scegliere il dodicesimo, cioè l'Apostolo che sostituiva Giuda. Ora, leggiamo al capitolo 1 di Atti degli Apostoli, al versetto 21. Naturalmente prima Pietro ha parlato di Giuda e ha spiegato che doveva andare, dove doveva andare, nel suo luogo, come era scritto di lui. Poi dal versetto 21 c'è la parte che riguarda la scelta del tredicesimo apostolo, praticamente, dell'Apostolo Mattia, che poi sostituisce Giuda. E dice così Pietro, bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signor Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo. Uno si è fatto testimone con noi della risurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe, detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero, tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Vedete dunque, vedete come l'Apostolo non è stato scelto perché è andato in una scuola biblica, perché era più intelligente. Pietro ha circa 120, perché erano circa 120 radunati. Ha presentato una situazione, ha presentato il fatto che mancava un apostolo. Lo dobbiamo, lo dobbiamo, ne dobbiamo trovare un altro, lo dobbiamo sostituire. Ma come lo sostituiamo? Gli facciamo un corso accelerato? Come lo dobbiamo determinare, questo, quest'altro apostolo? Ha detto che doveva avere determinate caratteristiche. Cioè, doveva essere stato con loro a partire dal battesimo di Giovanni addirittura, cioè doveva conoscere tutte le cose che, diciamo, conoscevano gli altri undici apostoli, che erano stati con Gesù dall'inizio praticamente. Addirittura ce n'erano due che avevano queste caratteristiche che Pietro ha richiesto. Guardate bene, è interessante notare questo, guardate questo. Dice, e ne presentarono due. Chi li presentarono? La Chiesa, i circa 120, erano tutti operanti. Cioè, non è che c'era uno che comandava in maniera assoluta e dittatoriale, una o undici quanti erano e gli altri non facevano niente. No. La Chiesa, gli atti degli apostoli, ci dimostra anche che la Chiesa è tutta operante. Tutti partecipano. Tutti, come sempre ho detto e dirò sempre, che non c'è nessun disoccupato nella Chiesa degli Dio viventi, è vero. Tutti lavorano, tutti devono lavorare, devono servire il Signore. Tutti devono collaborare insieme per andare sempre verso la stessa direzione. Come una barca a remi, no? Devono remare tutti verso la stessa direzione e in maniera coordinata. Sì, come dei rematori. Tanti rematori che remano devono essere coordinati e lo devono fare con la massima forza, perché ognuno deve trasmettere la sua spinta alla barca. Perché la barca, la Chiesa va nel mare del mondo, va se tutti spingono nella maniera più forte possibile e in maniera coordinata. Perché se ognuno si muove per conto suo, la barca non va da nessuna parte. Quindi ci vuole coordinamento, pari consentimento, uno stesso cuore, una stessa mente. E questo si può avere solo se uno si mette in comunione con Dio, pregando in Dio, stando in comunione col Signore. e lo Spirito Santo lo guida, lo Spirito Santo lo guida in ogni cosa e gli farà sentire le stesse cose che fa sentire gli altri. Vedete, non c'è un uomo che governa tutto, che dice agli altri cosa devono fare, ma è lo Spirito Santo, è questa fiducia che noi abbiamo. Non c'è bisogno di dare un ordine preciso a tutti. Noi diciamo prega, sta in comunione con Dio. E siamo certi che tutti ci muoveremo nella stessa direzione. Ogni tanto si incespica qualcuno, è chiaro che mette confusione. E allora lì bisogna intervenire perché qualcosa è successo, no? Come un meccanismo che si interrompe. Bisogna intervenire e farlo ripartire. E togliere quei pezzi che ostruiscono il passaggio, è chiaro. Quindi quello che è successo appunto da poco. Quindi abbiamo visto che la Chiesa partecipa tutta. Ne presentarono due. Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato giusto, e Mattia. Poi cosa hanno fatto? Tutti insieme hanno pregato. Vedete, non hanno detto Pietro, io sono il capo di tutti, qui decido io chi devo fare apostolo. No. Vedete? Ma hanno pregato tutti insieme. Hanno messo due persone due credenti, avevano determinate caratteristiche che servivano per fare, per acquisire, per essere, diciamo, investiti del ministerio di apostolo. Però ne serviva solo uno. Allora cosa hanno fatto? Hanno deciso loro? No. Hanno pregato il Signore, hanno chiesto al Signore. E poi hanno trattato a sorte. Vedete la fiducia in Dio? Hanno trattato a sorte. Uno dei due doveva uscire, uno doveva essere escluso. E hanno trattato a sorte. Quindi chi ha deciso fondamentalmente che, diciamo, uno dei due, che Mattia diventasse apostolo? Ha deciso, alla fine ha deciso il Signore. Quindi i ministeri li decide il nostro Signore Gesù Cristo. Uno non si può fare da se stesso un ministro. Non si può fare, lo può desiderare, lo può chiedere al Signore. Ma i ministeri è il Signore nostro Gesù Cristo che li deve distribuire. Devono avere anche delle caratteristiche. È chiaro, io voglio un ministerio che deve avere le caratteristiche. Eh, se no. Io voglio il ministerio, faccio l'esempio, di pastore. No, uno vuole il ministerio di pastore. Eh, deve avere delle caratteristiche, che sono le caratteristiche fondamentali che deve avere anche l'anziano. Perché il pastore deve pasturare, l'anziano pastura, quindi insieme devono pasturare. Solo che la differenza tra gli anziani e il pastore è che il pastore è costituito da Dio, ha un ministerio che è un'autorità superiore agli anziani. Però insieme agli anziani, quindi neanche da solo, insieme agli anziani, che sono anche, diciamo, devono avere anche gli anziani delle caratteristiche. Questo lo dice l'Apostolo Timoteo, scusate, l'Apostolo Paolo a Timoteo. La descrizione delle caratteristiche che devono avere gli anziani. Quindi gli anziani insieme al pastore conducono una comunità. Però il ministerio viene scelto dal Signore Gesù Cristo, come è scritto in Efesivi. Viene scelto da Gesù. Quindi io non mi posso fare un ministro. Nessun uomo sulla faccia della terra si può fare da se stesso un ministro. Deve aspettare che sia Dio che lo costituisce. E quindi, vedete, deve inginocchiarsi. Lo desideri, ma è una cosa buona. Non dico che sia sbagliato. Ti deve inginocchiare e devi chiedere al Signore e aspettare che Lui te lo doni. Non è che te lo puoi prendere da te stesso. Puoi studiare tutte le lingue che vuoi. Puoi studiare il greco, l'ebraico. Puoi saperle perfettamente. Ma il ministerio è Dio che te lo dà. Puoi aspirare a diventare diacono, a diventare vescovo. Se hai determinate caratteristiche, i fratelli possono dire, va bene, tu puoi farlo. Ecco, questa è un'autorità inferiore. Quella si può desiderare di diventare diacono e di diventare anziano. Perché quelli sono uffici, non sono ministeri. Il ministerio è scelto da Dio, da Gesù Cristo. Mentre l'ufficio dell'anziano, è chiaro che è lo Spirito Santo che costituisce, sempre deve avere determinate caratteristiche, come dice Paolo a Timotio. E quindi è sempre lo Spirito Santo che ha operato in queste persone, però qui diciamo che la Chiesa partecipa di più e li stabilisce, come poi vedremo, per quanto riguarda soprattutto i diaconi. Quindi abbiamo visto che il primo apostolo, qui Mattia, il sostituto di, il sostituto, infatti i primi undici, anzi o meglio, i primi dodici, sono stati fatti ministri, cioè apostoli, sono stati scelti da Gesù Cristo, no? Quindi sono stati scelti da Gesù. Anche tutti gli altri apostoli e tutti gli altri ministri e ministeri vengono dati da Gesù, che sono cinque, ve lo ricordo, sono apostolo, profeta, evangelista, pastore e dottore. Sono cinque, sono solamente cinque e nelle chiese operanti, nelle chiese quelle complete, diciamo, devono essere operanti tutti i ministeri. È bene che ci siano tutti i ministeri operanti. I ministeri non devono ricadere tutti sulla stessa persona, ma ad esempio l'apostolo Paolo era apostolo e dottore, era inviato e poteva anche insegnare, aveva queste capacità che Dio gli aveva dato e gli erano riconosciute da Dio appunto come ministeri. Gli erano stati dati i ministeri, aveva la conoscenza per poter insegnare e aveva i doni potenti, che ha l'apostolo, per poter annunziare l'Evangelo e portare l'Evangelo in luoghi dove magari l'Evangelo non era mai stato annunziato. Era inviato da Dio per annunziare l'Evangelo e per costituire delle comunità. Costituite queste comunità a seguito dell'evangelizzazione, Paolo aveva anche il ministerio di dottore per poter ammaestrare quei credenti e poter dare loro quello che serviva per crescere nella conoscenza della parola. Paolo aveva due ministeri. Non esiste il fatto, come dicono in certe denominazioni, che il pastore ha tutti i ministeri. Non li aveva Paolo, figuriamoci se ce li hanno oggi. E poi quali sono i segni? Eh sì, perché uno dice, ah io ho i ministeri. Sì, ma fammi vedere i segni. Perché Paolo aveva i ministeri, la conoscenza del dottorato ce l'aveva profonda. E poi aveva anche la potenza dello Spirito Santo nel guarire gli infermi, cacciare i demoni, imporre le mani, far ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. Questi erano i segni dell'apostolato. Quindi se uno si scrive io sono apostolo e fammi vedere i segni, capite? Ecco il libro degli atti degli apostoli, quanto è importante. Chi protegge anche, perché conoscendo atti tu puoi essere anche protetto contro i falsi che si presentano dicendo che sono chissà che cosa e invece non sono proprio niente. Se tu sei apostolo devi avere i segni dell'apostolo. Io vi voglio vedere, se non ci sono i segni, sono tutte chiacchiere, sono tutte chiacchie. Ma andiamo avanti, quindi abbiamo visto come è stato scelto Mattia come apostolo. Adesso andiamo a vedere come sono stati scelti al capitolo, andiamo in atti, sempre in atti degli apostoli, al capitolo 13, i primi versetti del capitolo 13, come è stato scelto apostolo Paolo e come è stato scelto apostolo Barnaba. qui un altro, altri due ministeri, altri due apostoli. 13, 1 di Atti. Or nella chiesa d'Antiochia vi erano dei profeti e dei dottori. Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manain, fratello di Latte di Ero del Tetrarca e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore, digiunavano, lo Spirito Santo disse mettetemi a parte Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là navigarono verso Cipro. Vedete, qui in questo caso gli apostoli Paolo e Barnaba furono mandati, perché apostolo vuol dire inviato, mandato, da Dio, dallo Spirito Santo in questo caso. E furono costituiti in questa maniera. La chiesa stava facendo il culto, quindi vedete, perché stiamo leggendo questi passi? Per capire tutto ciò che riguarda la chiesa, cosa deve fare la chiesa. Vedete, la chiesa era riunita e celebrava il culto. Quindi sappiamo, vedete, che la chiesa antica si riunivano e celebrava il culto. E stavano anche digiunando, vedete, quindi vedete quante informazioni ci dà il libro degli atti degli apostoli. Ci dice tutto quello che è una chiesa, tutto, una grossa parte. Poi dopo alcune cose dobbiamo poi noi aggiungerle, nel senso ci sono cose, ad esempio, dobbiamo cantare cantici, qui magari non so se c'è scritto, però sappiamo che si cantano anche i cantici, poi si prega e dopo viene portata la parola. Però vedete qui, quindi qui dice che celebravano il culto, il culto del Signore, digiunavano e lo Spirito Santo parlò. Eh sì, perché vedete, lo Spirito Santo parla. Cioè noi diciamo che lo Spirito Santo è una persona, non è una forza, non è chissà che cosa, è una persona a sé stante, diversa dal Padre e dal Figlio. Il Padre e il Figlio che è Gesù Cristo sono altre due persone, lo Spirito Santo è un'altra persona ancora diversa. Tutti e tre insieme formano un unico e vero Dio. Quindi quando leggiamo nelle scritture che Dio è uno, Dio è uno, noi non lo escludiamo questo. Però il resto delle scritture, sta altresi scritto, ci dice che quest'unico Dio è formato da il Padre, che non è il Figliolo, il Figliolo Gesù Cristo è lo Spirito Santo. Per alcuni è un mistero irrisolvibile questo, anche per noi è un mistero, non sappiamo come i tre possano essere uno, però io non posso annullare e dire che sono solo tre, come non posso annullare l'altra parte e dire no, è solo uno, capite? Dobbiamo prendere tutte e due le parti. Quindi dobbiamo dire che i tre sono uno, che in una parola, i tre sono uno, è indicata con la parola Trinità, che non è scritta nella Bibbia, lo sappiamo, ma c'è il concetto, quindi la parola Trinità ci aiuta, ci aiuta a specificare una dottrina. Con una parola noi indichiamo una dottrina, capite? Quindi anche se non c'è nella Bibbia, però c'è il concetto, la parola ci aiuta, ci aiuta a individuare una dottrina, un concetto, un argomento, una verità biblica. Comunque, lo Spirito Santo ha parlato, questo cosa ci fa sapere? Ci fa sapere che lo Spirito Santo quando si fa un culto può parlare, e sì, può stabilire dei ministri, capite? Direttamente il Dio attraverso una parola, non è che parla solo attraverso profezia, attenzione, c'è che il Dio parla attraverso il dono spirituale di profezia, che è praticamente il Dio parla attraverso la bocca di uno dei credenti, che ha il dono appunto di profezia. Può parlare così, ma può anche parlare direttamente, quindi dice, lo Spirito Santo disse, non ci dà altre spiegazioni. Quindi possiamo anche credere, pensare, ed può essere così, che lo Spirito Santo ha parlato direttamente, quindi si è sentita la voce dello Spirito Santo che ha parlato, hanno sentito e hanno poi successivamente obbedito. Ma la Chiesa è stata esclusa anche da questa decisione dei due ministri o no? Guardate cosa dice qui. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani, perché questo vuole dire che la Chiesa approvava, era d'accordo, agiva, diciamo, agiva in comune accordo con lo Spirito Santo. Quindi era d'accordo, non c'era nulla in contrario da parte della Chiesa che Paolo e Barnaba fossero fatti apostoli. Se ci fossero state delle contrarietà non sarebbe avvenuto questo, nel senso che se uno dice, ah, io sono apostolo, ma non ha delle caratteristiche, non ha una buona reputazione, che ne so, è sposato e divorziato, capite? O altre delle problematiche che non può assumere un ministerio, sicuramente tutta la Chiesa non sarebbe stata d'accordo. Ecco, vedete, quindi la Chiesa è sempre lì, è presente, è operante, come gruppo, capite? Cioè non ci sono doveri solo legati al singolo, ma ci sono doveri, ognuno di noi ha dei doveri, oltre che singolarmente, tra lui e il Signore, ha dei doveri anche verso la propria famiglia, ha dei doveri anche verso la propria Chiesa, proprio il gruppo che frequenta e col quale lui si sente in comunione, ha degli obblighi. Ecco perché non deve esistere la maldicenza, ecco perché non deve esistere la cattiviglia tra di noi, ecco perché ci dobbiamo sopportare gli uni e gli altri. Non è che al minimo errore di uno, l'altro gli spara col fucile e lo mette alla berlina chissà dove. Non è così, noi siamo una famiglia, siamo la Chiesa di Cristo, ogni membro, noi, facciamo parte del corpo di Cristo, noi dobbiamo amare il fratello, ma se uno non ama il fratello che vede, come fa ad amare Gesù Cristo che non vede? Capite? E' scritto anche questo. Ecco perché io mi devo sforzare ad amare prima il Dio, certo, il più grande comandamento, amare il Dio con tutte le nostre forze, e poi amare il nostro prossimo come noi stessi. Ma anche amare il fratello, e attenzione, dobbiamo amarci gli uni e gli altri, amarci profondamente, non amarci così a parole, a chiacchiere. Se uno ha bisogno l'altro lo aiuta, se lui sbaglia nei tuoi confronti tu lo sopporti, hai pazienza, dobbiamo trovare sempre un accordo se sbaglia contro di te, non c'è bisogno di andare a parlare con mezzo mondo, ha sbagliato lui, vai a parlare con lui, si risolverà tra due, subito, si risolve subito la cosa, hai subito un torto, subito, vai e diglielo, non deve passare molto tempo, il problema si risolve, il 99% dei problemi che ci sono in mezzo alla Chiesa sono problemi inutili, non gravi, solo che l'orgoglio di alcuni rovina la comunione. Ecco e questo non deve esserci, non deve esserci, purtroppo c'è, però noi non dobbiamo essere occasione noi di caduta, capite? Se lo sono gli altri non dobbiamo esserlo però noi. Quindi abbiamo visto altri due apostoli come sono stati scelti, no? Direttamente dallo Spirito Santo. Però la partecipazione della Chiesa c'è sempre, con l'imposizione delle mani, c'è l'approvazione nel senso, lo Spirito Santo ha scelto e anche la Chiesa era d'accordo, non avevano problemi ostativi da tirare fuori. Poi un giorno è successo, è successo perché poi ci sono anche dei problemi e hanno dovuto scegliere anche, perché era una Chiesa in via di formazione, cioè fondamentalmente ho capito che le Chiese sono quasi tutte sempre in via di formazione, no? C'è sempre un'evoluzione, quindi come era in via di formazione con dei problemi anche la Chiesa di Atti degli Apostoli, la prima Chiesa, così lo siamo anche noi, quindi verrà il momento in cui ci sarà nelle città dei gruppi di persone e si dovrà scegliere gli anziani, i ministeri abbiamo appena detto che li sceglie il Signore, però gli anziani ci deve pensare la Chiesa, no? Magari il ministro, il pastore non è stato ancora stabilito da Dio e si devono scegliere gli anziani comunque, sì. Eppure anche i diaconi, perché sono importanti anche i diaconi, perché gli anziani e i pastori e gli altri ministeri non si possono dedicare a tutto a loro, non possono fare tutto a loro, bisogna che siano aiutati, quindi ci vogliono gli assistenti, i diaconi chiamati nelle Sacre Scritture. E qui vediamo, adesso andiamo al capitolo 6 di Atti dove leggiamo che c'è stato un problema e hanno dovuto scegliere dei diaconi per poter risolvere quel problema che si era venuto a creare. Capitolo 6 dal versetto 1. Or in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, raunata la moltitudine dei discepoli, dissero, non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quante a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola. E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed è l'essero Stefano, uomo pieno di fede e di spirito santo, Filippo, Procoro, Nicannone, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. E li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Quindi vedete cos'è successo qua. C'era un mormorio, quindi c'erano dei problemi nella Chiesa, c'erano dei problemi. C'è, le vedove a quell'epoca non c'avevano un'assistenza dello Stato, del Governo, del Comune, non avevano una pensione del marito, non avevano neanche una pensione loro. Non c'era questo tipo di assistenza. E quindi le vedove dovevano gravare da chi? Sulla Chiesa. Prima dovevano gravare sui familiari, se ne avevano, ma se non avevano familiari, gravavano sulla Chiesa. E quindi la Chiesa doveva dare da mangiare a queste vedove. Solo che cosa successe? Le vedove dei greci, siccome erano gli ebrei lì, in maggioranza, gli ebrei che governavano a Gerusalemme, perché stiamo parlando di Gerusalemme, praticamente trascuravano le vedove greche elleniste. Capite? C'erano dei riguardi personali, c'erano dei peccati di fondo, degli errori di fondo. Ora, cosa è successo? Queste vedove, in quel caso giusto, gli ellenisti hanno mormorato, cioè hanno parlato contro, mormorare vuol dire parlare contro, no? Hanno mormorato di questa situazione, in questo caso il mormorio era giusto, questa lamentela era giusta. Infatti gli apostoli, una volta sentita questa lamentela, cosa hanno fatto? Hanno cercato una soluzione, non hanno cacciato via quelli che si sono lamentati, perché quando la lamentela è giusta, ma trovate una soluzione. Quando invece il mormorio è solo cattivo, finire a distruggere, ma non ha nessuna utilità, ecco, in quel caso non va bene, in quel caso stanno peccando davanti a Dio. Invece in questo caso era una cosa giusta, infatti gli apostoli hanno reagito. E cosa hanno fatto? Hanno deciso, guardate che noi non possiamo tralasciare la preghiera, cioè è bene, è conveniente che gli apostoli non lasciassero. La preghiera è il ministerio della parola, per servire alle mense, praticamente, per decidere perché queste persone dovevano servire alle mense, dovevano gestire questo aspetto qua, l'assistenza ai poveri, ai bisognosi, praticamente. Però anche questo tipo di assistenze non è che si faceva così, cioè questi diaconi che furono scelti. Guardate bene, qui Pietro disse, non è che li scelgo io, o li scegliamo noi apostoli, scegliamo i diaconi. No! Quindi ancora una volta l'importanza di tutta la Chiesa, vedete? L'importanza di tutta la Chiesa che operava. Infatti Pietro disse, disse, perciò fratelli cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Vedete, tutta la Chiesa ha partecipato, tutta. Cioè Pietro, gli apostoli non facevano tutto loro, ma la Chiesa doveva essere unita e partecipare tutti quanti. Pietro diede, diciamo, diede soltanto delle indicazioni, qui. Disse, come dovevano essere? Il numero, decise il numero, hanno deciso il numero, sette, scegliamone sette. E poi come dovevano essere? Dovevano avere una buona testimonianza, vedete? Certo, perché se uno non ha una buona testimonianza tra quelli di dentro e quelli di fuori, non possono servire davanti agli altri, non possono essere di esempio per gli altri, capite? E quindi buona testimonianza è importante, sempre quando si serve il Signore. Pieni di spirito e di sapienza, ma è chiaro, perché in qualsiasi compito nella Chiesa che si compia, se uno è pieno di spirito è meglio. Se uno deve avere sapienza, capite? A quell'epoca imponevano le mani ed erano tutti, quasi tutti battezzati con lo Spirito Santo. Diciamo tutti, perché chi non lo riceveva aveva un problema a lui, perché lì c'era proprio, questo poi lo vedremo subito dopo, lì sinché non era battezzato con lo Spirito Santo, gli apostoli gli imponevano le mani e lo ricevevano. Quindi era proprio un dono che avevano gli apostoli. Ed erano quindi Pietro, avendo la possibilità di scegliere tra persone che erano ripieni di Spirito Santo, e lo disse, pieni di Spirito Santo, pieni di Spirito e di sapienza pure. Uno può essere anche ripieno di Spirito Santo, ma può non avere una sapienza sufficiente o inferiore ad altri e quindi anche quell'elemento era importante. Ecco perché noi tutti in preghiera dobbiamo chiedere continuamente sapienza e intelligenza spirituale al Signore. Perché senza quella noi non riusciamo a fare nulla, non si può fare nulla, credetemi, io senza sapienza da Dio non riuscirei a fare nulla, neanche a lavorare, ne ho bisogno anche per lavorare, ne ho bisogno per qualsiasi cosa che faccio. E quindi ogni volta che mi inginocchio io la chiedo la sapienza a Dio, perché io sono carne e polvere, tutti noi siamo carne e polvere. Non è che c'è uno che è più intelligente di un altro, no? La sapienza che abbiamo ci viene data da Dio, quindi è Dio che distribuisce la sapienza. Ora, se Dio ha distribuito la sapienza maggiore ad alcuni e ad altri inferiore, magari gli ha dato altre caratteristiche a questi altri, però per quanto riguarda la sapienza ne ha dato più ad unni, più a certuni che ad altri. Ecco, quelle persone spiccano, allora quelle persone, vedete, ed è una caratteristica che è importante anche per avere l'ufficio di diacono qui, come disse Pietro, dovevano essere ripieni di sapienza. E ne scelsero, e ne scelsero, diciamo, e la chiesa, vedete, la chiesa tutta scelse sette persone, le scelse e le presentarono davanti agli apostoli. Gli apostoli cosa fecero? Li presentarono agli apostoli, i quali dopo aver pregato, imposero loro le mani. Vedete, quindi c'è sempre una unione, una azione della chiesa tutti insieme, capite? Non esiste il fatto che sia tutto uno, fa tutto uno, tutti due, tre persone. No, devono partecipare tutti, però è chiaro che devono partecipare e fare le cose in maniera sensata, in maniera che abbia un senso tutto quello che si fa. Il fatto che tutti devono partecipare vuol dire che tutti devono avere comunque un medesimo cuore, devono tutti attenersi alle scritture, non è che se tutti vogliono partecipare ognuno se ne può andare come vuole. Come abbiamo fatto l'esempio prima, siamo in una barca, siamo tutti rematori, va bene, e dobbiamo remare tutti con forza e anche tutti insieme, coordinatamente. Se uno rema male disturba anche gli altri, quindi bisogna sistemare le cose. Allora, se uno non rema, praticamente se uno non rema fa da peso nella barca, è una zavorra, quindi chi è nella barca devono remare tutti, chi più, chi meno. In questo caso vedete poi li hanno scelti, quindi la chiesa ha partecipato e gli apostoli ne hanno imposto le mani e li hanno stabiliti come diaconi che dovevano servire alle mensi. Adesso vediamo che gli apostoli, adesso dobbiamo andare al capitolo, sì, capitolo 14, versetto 21, vediamo anche che furono scelti degli anziani. Abbiamo visto scelta dei ministri, la scelta dei diaconi come ufficio e la scelta anche di anziani, come avviene in questa maniera. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono all'Istra, Aiconio ed Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede. E dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto. Quindi qui praticamente Paolo insieme ai suoi collaboratori avevano fatto il giro di diverse città, Aiconio, Listra, Derba, poi anche Antiochia di Siria, è praticamente nelle città dove ad Antiochia e Aiconio, dove partì con Barnaba per Derba, e hanno evangelizzato quella città. Essendo che in quella città si convertirono in molti, cioè fatti molti discepoli, quindi al seguito dell'evangelizzazione furono fatti molti discepoli. Ma gli apostoli non rimanevano fermi nello stesso punto per molto tempo, dopo un po' dovevano andare via. Prima di andarsene avevano in quel caso, sono stati gli apostoli a stabilire, gli apostoli, quelli Paolo e i suoi collaboratori, a eleggere, fatti e leggere per ciascuna chiesa degli anziani. Cioè, qui dice fatti e leggere, quindi sono stati eletti dalla chiesa sotto la direzione e il controllo degli apostoli. È chiaro che questi anziani dovevano avere determinate caratteristiche. Una volta che la chiesa, quindi praticamente gli anziani che furono stati scelti in quella comunità, in quella città, dovevano andare bene sia agli apostoli, sia a Paolo, sia ai suoi collaboratori, che alla chiesa stessa che aveva lì. Capite? Deve andare bene a tutte e due. Infatti furono eletti e dopo cosa è successo? Successe che dopo aver pregato e digiunato raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto. Quindi furono stabiliti gli anziani. Ecco come funzionava la chiesa di quel tempo. Si formavano le comunità dopo una evangelizzazione e dopo venivano stabiliti degli anziani che governassero quella chiesa. Poi abbiamo visto anche la Costituzione, come venivano, diciamo, stabiliti i diacoli. E questi erano alcuni esempi che riguardano la prima chiesa, come veniva stabilito il governo della chiesa. Ecco perché ho detto all'inizio che il libro degli atti degli apostoli è un libro importantissimo che noi dobbiamo tenere da conto per identificarci in quella chiesa, per avere un modello, un modello di chiesa a cui rifarsi. Quindi noi esaminiamo noi stessi e il nostro gruppo di cui facciamo parte e lo confrontiamo con quella chiesa. Siamo mancanti? Sì, però il modello di chiesa corretto è quello. È quello. Quindi se le cose non combaciano con quello che siamo noi e quella chiesa lì, il problema è nostro. Nel senso che dobbiamo cercare noi una soluzione nel nostro interno. Possiamo pregare, possiamo stabilire gli anziani, possiamo stabilire anche i diacoli, però i ministri, la potenza dello Spirito Santo, le guarigioni e le altre cose potenti, i potenti miracoli, quelli è Dio che li fa. Quindi fino a dove noi possiamo arrivare, arriviamo. Dopo è il Signore che deve operare. Però quello che dobbiamo fare noi lo dobbiamo fare. Quello ci viene richiesto che lo dobbiamo fare. Un'altra caratteristica di quella chiesa da tenere da conto della prima chiesa è la potenza dello Spirito Santo. Eh sì, perché Gesù, Gesù promise, già i profeti avevano scritto della promessa del battesimo con lo Spirito Santo, con il segno delle lingue. Lo aveva già promesso attraverso il profeta Gioele. Poi lo aveva promesso Giovanni Battista, aveva detto, in riferimento a Gesù, che Gesù era quello che battezzava con lo Spirito Santo e col fuoco, con riferimento appunto al battesimo con lo Spirito Santo. Poi la promessa l'ha rinnovata Gesù Cristo, ha rinnovato la promessa. Voi sarete, al capitolo 1, riatti al versetto 4, dice, e trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udita da me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Poi ancora il versetto 8 dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi vedete Gesù fece questa promessa, prima la fece Gioele e anche altri profeti, Isaia, poi questa promessa fu ricordata da Giovanni Battista, poi ricordò la promessa per la Chiesa sia giudei che gentili, anche Gesù. E dopo al capitolo 2, versetto 39, vediamo che la promessa è ancora anche per noi, la promessa dello Spirito Santo, del battesimo con lo Spirito Santo. Attenzione, qui stiamo col battesimo con lo Spirito Santo, parliamo di riempimento di Spirito, ma una misura di Spirito i credenti ce l'hanno già dal momento in cui nascono di nuovo. Dal momento in cui uno nasce di nuovo, che ha fede in Cristo Gesù, se uno diventa discepolo, crede, nasce di nuovo, viene salvato e sui peccati sono purificati, da quel momento ha in sé una misura di Spirito Santo. Quindi quello che avviene dopo con riempimento è appunto la pienezza, è un riempimento di potenza dello Spirito Santo praticamente, sia una maggiore potenza. Cosa vuol dire questa maggiore potenza? Cioè nel compiere il servizio di cristiano, di ministeri, di uffici che ti è dato l'incarico, con la potenza dello Spirito Santo lo fai con più efficacia, cioè raggiungi più risultati. Questo è il senso. È chiaro che noi vogliamo raggiungere dei buoni risultati, vogliamo essere efficaci nel servizio che vogliamo rendere al Signore e alla Chiesa. Quindi cosa facciamo? Preghiamo chi ancora non l'ha ricevuto, deve pregare di riceverlo lui e pregare anche per gli altri. Chi l'ha già ricevuto deve pregare che lo ricevino gli altri e bisogna pregare tutti insieme comunque di ricevere anche i doni spirituali. I doni spirituali come sono indicati in prima Corinzi al capitolo 12, l'elenco dei doni spirituali che sono nove. Anche quelli sono importanti per avere una maggiore efficacia nel raggiungere, nel compiere i nostri servizi. Servizi per la Chiesa. Poi immaginatevi, no, per farvi capire maggiore potenza e raggiungere maggiori risultati. Se uno prega il Signore, guarisce un infermo, non possono dire che Dio non è con te, capite? Quindi molte resistenze vengono vinte appunto dalla manifestazione potente dello Spirito Santo. E questo è il senso. Quindi le resistenze che altri hanno nei confronti di quello che gli viene detto vengono vinte. Vengono vinte perché hanno visto una manifestazione potente dello Spirito Santo. Infatti in un punto Gesù disse voi se non vedete miracoli non crederete. E così infatti Gesù faceva dei miracoli affinché credessero in Lui. E così hanno fatto anche gli apostoli, hanno fatto altri ministri che il Dio ha stabilito e hanno compiuto dei segni e dei prodigi. Questo perché? Perché l'efficacia nel servire la Chiesa e l'efficacia nel annunziare l'Evangelo era maggiore con la potenza dello Spirito Santo. Perché la potenza dello Spirito Santo e i doni spirituali come è scritto in ebrei sono la conferma che Dio opera con loro. Come è scritto. Andiamo a vedere il primo capitolo di ebrei. C'è scritto capitolo 2 di ebrei dal versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? La quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi con opere potenti svariate con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Quindi la potenza dello Spirito Santo è Dio che la distribuisce. È lui che dà la conferma potente. Va bene? Noi cosa possiamo fare? Non ce la dobbiamo mica inventare come purtroppo hanno fatto certuni. Certuni se la sono inventata e poi vedi la loro vita che è dissoluta e non serve a niente la loro vita spirituale. Perché? Perché si sono inventati di aver ricevuto qualcosa che in verità non hanno ricevuto. Ecco, questo non va bene. Noi invece aspettiamo. Noi quello che possiamo fare è credere in questa promessa, credere e pregare Dio di riceverla. Questo lo dobbiamo fare noi. Poi a distribuirla è lui che lo fa, è Dio che lo fa. Lo fa quando vuole lui e come vuole lui. A noi ci è richiesto di avere fede in questa promessa e di domandarla, desiderarla con tutto noi stessi. Questo dobbiamo fare e lo dobbiamo domandare. Quindi abbiamo visto, adesso vediamo, abbiamo visto la promessa, questa promessa del battesimo con lo Spirito Santo che è stata fatta anche per noi, perché noi dobbiamo sapere se questa promessa era solo per quel tempo oppure è anche per oggi. E lo leggiamo, la promessa viene rinnovata dall'Apostolo Pietro anche per noi in questo passaggio. Capitolo 2 di Atti, versetto 39. Poiché per voi è la promessa, questi voi sono i giudei a cui Pietro in quel momento stava parlando. Poiché per voi è la promessa, è per i vostri figlioli, è per tutti quelli che sono lontani. Quindi la promessa era per voi, cioè Pietro che parla ai giudei, per i vostri figlioli, quindi i discendenti dei giudei. Poi dice per quelli che sono lontani, quelli che sono lontani, la scrittura indica i gentili, sono i gentili, cioè quelli che non sono ebrei. Quindi vedete la promessa è anche per quelli che sono lontani. Per quanti, questa è, diciamo, fino a lontani, la promessa è indicata per quanto riguarda la discendenza carnale, no? I gentili e i giudei. Quindi sono compresi sia i gentili che i giudei in questa promessa. Poi dice per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Qui invece c'è un riferimento al tempo, al tempo futuro. Per quanti, vedete, quindi la promessa per chi è? Per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi sta parlando del futuro. Quindi non è qualcosa legata solo a quel momento d'inizio della prima Chiesa, ma è riguarda anche il futuro. Quindi la promessa del battesimo con lo Spirito Santo riguarda anche noi oggi, riguarda anche la Chiesa oggi, riguarda la Chiesa dal primo secolo fino ad oggi. Ecco perché noi ci dobbiamo attenere agli Atti degli Apostoli, lo comprendete. Più si studia Atti degli Apostoli e più si comprende che noi dobbiamo assomigliare, desiderare e vedere come unico modello nostro da imitare la Chiesa antica. Non ci dobbiamo identificare nella storia di Calvino, nella storia di Luteo o in altri, neanche nei Pentecostali, perché anche i Pentecostali hanno avuto i loro problemi dottrinali, di comportamento. Noi dobbiamo guardare alla prima Chiesa, la Chiesa antica. Naturalmente il Libro degli Atti ci dà il modello, insieme alle lettere degli Apostoli formiamo così anche la dottrina. Non è che adesso guardiamo solo il Libro degli Atti e tutto il resto non va visto. No, il Libro degli Atti ci dà il modello della Chiesa, un esempio a cui ci dobbiamo attenere, a che cosa noi dobbiamo assomigliare. È chiaro che poi nel dettaglio dobbiamo esaminare la somma della parola, non è che dobbiamo guardare solo il Libro degli Atti. Però oggi stiamo esaminando il Libro degli Atti, perché dobbiamo comprendere a quale modello di Chiesa noi dobbiamo aspirare e desiderare. Ora, questa era la promessa. La promessa quando ha iniziato ad adempiersi e come si è cominciato ad adempiersi, come si è adempiato. Adesso andiamo proprio in pratica come la scrittura ci dice che avvenivano le cose. Ad esempio, la prima volta che fu distribuito il battesimo con lo Spirito Santo, il riempimento, lo descrive così. Luca lo descrive così. Quindi dobbiamo andare al capitolo 2 di Atti, al versetto 1. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi questo avvenne. Lo Spirito Santo scese su di loro, entrò su di loro, furono riempiti come vasi di terra, che noi siamo dei vasi di terra, col battesimo con lo Spirito Santo, questo vaso di terra viene riempito della gloria di Dio, praticamente della potenza dello Spirito Santo, dello Spirito Santo, e trabocca. Trabocca come? Trabocca con un parlare in altre lingue, che la persona che parla non comprende. E quindi qui, per comprendere quello che lui dice parlando in lingue, deve pregare Dio di ricevere il dono dell'interpretazione delle lingue. Questi sono dei doni, sono altri, altro discorso da affrontare che affronteremo magari in un altro momento. Adesso ci atteniamo al battesimo con lo Spirito Santo. Quindi furono riempiti di Spirito Santo e la conseguenza fu che iniziarono, cominciarono a parlare in altre lingue. che lingue erano? E qui c'è un dubbio a cui dobbiamo per forza di cose rispondere. Non erano lingue di angeli, non erano lingue di angeli. Perché non erano lingue di angeli? Non erano lingue di angeli perché dopo ce lo dice, dice al versetto 9 e al versetto 8. E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti medie, lamiti, abitanti della Mezzopotamia e insomma di tutte le terre, di tutti i paesi conosciuti allora, dice al versetto 11, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. Nelle nostre lingue, non nelle lingue degli angeli, capite? Cioè, in questi circa 120, perché quando ricevettero in Atti 2 il battesimo con lo Spirito Santo, praticamente cominciarono a parlare tutte queste lingue. Cioè, ognuno di questi parlava una o più lingue, però parlavano lingue di uomini. Questo è importante, lo voglio sottolineare perché alcuni, siccome si sono inventati le lingue, se le inventano è una cacofonia, è un ripetere due o tre sillabe di quel linguaggio e poi dicono che è un parlare in lingue, il linguaggio degli angeli, perché così tu non lo puoi tradurre e nessuno ti può capire. No, no, non è così, non è assolutamente così. Chi viene battesato con lo Spirito Santo parla linguaggi umani, perché il linguaggio angelico viene preso da Paolo in un punto per fare un ragionamento, per usarlo come punto estremo della cosa, capite? Come figura estrema, come per spiegare il concetto che sta spiegando. Cioè, anche se io parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, quindi al primo capitolo, capitolo tredici di Prima Corinzia, l'inno dell'amore, della carità, conosciuto, un capitolo molto conosciuto. Quindi, ma quello viene usato come estremo, capite? Non come normalità, ma viene utilizzato come figura estrema, non la possiamo prendere come normalità. La normalità ce l'abbiamo qui ben descritta al capitolo 2 di Atti, è ben descritto che parlavano lingue di uomini, quindi parlavano lingue di uomini, non parlavano lingue angeliche. Chi viene battezzato con lo Spirito Santo parla una lingua a lui sconosciuta, ma è una lingua umana, quindi se io mi mettessi a parlare, faccio un esempio, il russo, che non lo conosco, parlo il russo o un'altra lingua, o il cinese, che è ancora più difficile, non so niente di cinese, io non capisco. Ma se mi sente il cinese, anche se non ha il dono dell'interpretazione, se mi sente il cinese, lui il cinese lo capisce di quello che sto dicendo, capite? Quindi, in una comunità dove siamo solo tutti italiani, se uno parla cinese non lo capisce nessuno, cioè ci vuole il dono dell'interpretazione, capite? Mentre se siamo in una comunità internazionale, sono presenti persone di tutte le nazioni lì dentro, è probabile, è probabile come la testimonianza di alcuni fratelli hanno confermato, che tu parli quella lingua e l'altro ti può capire. Uno, come hanno capito, perché qui anche ai tempi di... il passaggio che abbiamo citato prima, quando venne il giorno della Pentecoste, quelli che li hanno sentiti parlare, hanno capito anche il senso, infatti dice, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. Quindi, praticamente, parlavano, con le lingue parlavano delle cose grandi di Dio. Non era un messaggio rivolto agli uomini, non era evangelizzazione anche questo, perché chi parla in altre lingue parla a Dio, chi parla dello spirito del dono di profezia. Quando invece ci abbiamo, ci sono le lingue, queste lingue è un parlare rivolto a Dio, è come una preghiera, un cantare a Dio, glorificare Dio, parlare delle cose grandi di Dio per glorificare Dio. Quindi, le lingue è lo Spirito Santo, praticamente, che prega, che attraverso l'uomo, attraverso il credente, che glorifica il Dio. Questa distinzione era utile farla. Quindi, abbiamo visto che qui cominciarono a... dal giorno della Pentecoste hanno iniziato a ricevere la potenza dello Spirito Santo. Ma non c'è solo questo, questo passaggio. Ad esempio, lì, diciamo, è stato ricevuto liberamente, non c'è stata nessuna imposizione delle mani. Invece, se noi andiamo nel libro di Atti degli Apostoli, ad esempio, al capitolo 8, dal versetto 14, cosa era successo, praticamente? Filippo, l'Evangelista, aveva annunziato l'Evangelo a Samaria. I samaritani avevano ricevuto, erano, diciamo, non erano giudei, erano una popolazione mischiata, giudei, insomma, ma non erano proprio ebrei, ebrei puri. Erano comunque ritenuti impuri, impuri come i gentili da parte dei giudei. I samaritani comunque accertarono l'Evangelo che gli fu annunziato da Filippo. Accertarono l'Evangelo e furono battezzati in acqua. Quindi, credettero e furono battezzati in acqua da Filippo. Questo Filippo lo poteva fare. Filippo aveva anche, diciamo, aveva anche guarito degli infermi, dei paralitici, zoppi, aveva compiuto anche dei segni prodigi che avevano convinto comunque i samaritani ed avevano creduto. Quello che Filippo, l'Evangelista Filippo, non è riuscito a fare è che i samaritani ricevesse il battesimo con lo Spirito Santo. non ci è riuscito, cioè non dipendeva da lui. Non aveva quell'autorità, praticamente. Non gli era dato quel dono. Gerusalemme, la chiesa di Gerusalemme, udito che la Samaria aveva ricevuto l'Evangelo, mandarono Pietro e Giovanni. E da qui lo leggiamo, dal capitolo 8, dal versetto 14. Or, gli apostoli che erano a Gerusalemme avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Quindi qui in questo caso, vedete, gli apostoli avevano quell'autorità di imporre le mani e far ricevere il battesimo con lo Spirito Santo a quelle persone a cui imponevano le mani. Cosa che Filippo non aveva, vedi, quindi l'Evangelista ha dei doni, l'Apostolo ha quei doni di Evangelista, ma neanche qualcuno in più, perché l'Apostolo viene prima di Evangelista, ha una maggiore potenza e maggiori doni, ha dei segni superiori agli altri ministeri, praticamente l'Apostolo. E avvenne in questa maniera. Per quanto riguarda poi ancora, andiamo per ricordare altri casi in cui lo Spirito Santo è sceso, perché abbiamo visto che sono state imposte le mani, ma è sceso anche liberamente, sia la prima volta che anche a Cornelio e la sua famiglia. Pietro annunziò l'Evangelio a Cornelio a quelli di casa sua e al versetto, capitolo 10 di Atti, versetto 44, leggiamo. Quindi Pietro annunziò l'Evangelio a Cornelio, a quelli di casa sua, bene, gli annunziò l'Evangelio. Mentre Pietro parlava, ancora parlava, accadde questo. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Vedete, la prima volta abbiamo visto che li sentivano, attraverso le lingue, li sentivano parlare delle cose grandi di Dio. Qui invece li sentivano magnificare i Dio. In qualche maniera l'avevano capito che magnificavano i Dio. Quindi vedete, sempre un parlare confermato. Quando si parla in altre lingue si parla a Dio. Vedete, sempre un parlare rivolto a Dio. Questo lo voglio ripetere perché c'è molta confusione anche su questo aspetto che riguarda il battesimo con lo Spirito Santo e le lingue e l'interpretazione e anche la profezia. C'è molta confusione, però questo poi ne argomenteremo, lo spiegheremo in un altro giorno. Adesso abbiamo visto quelli Cornelio e quelli di casa sua avevano ricevuto. Facciamo un altro esempio. Un altro esempio quando Paolo andò ad Efeso. Quindi qui siamo nel capitolo 19 di Atti, quando Paolo andò ad Efeso, incontrò dei discepoli e gli fece delle domande. Versetto 2, 19, 2. Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro di che battesimo siete stati, siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero del battesimo di Giovanni. E Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa dodici uomini. Questi qui, vedete, furono, dice che Paolo impose loro le mani. Vedete, Paolo era apostolo, quindi poteva impogli le mani, aveva quell'autorità. Mentre prima abbiamo visto che Pietro e Giovanni, apostoli, hanno imposto le mani ai samaritani. Adesso vediamo che Pietro impone e Paolo impone le mani a questi circa dodici uomini e ricevettero lo Spirito Santo e parlavano in altre lingue e profetizzavano. In questo caso, nel contempo che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, hanno anche profetizzato. Questo cosa significa? Significa che hanno ricevuto anche il dono spirituale di profezia, eh? Significa che è avvenuto anche questo. Quindi gli è stato trasmesso anche, attraverso l'imposizione delle mani, anche dei doni spirituali. Non c'è non c'è da meravigliarsi perché Paolo lo dice, lo dice che si può trasmettere anche dei doni spirituali, lo dice ai romani, ai romani a capitolo 1, versetto 11. Poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Vedete? Quindi attraverso gli apostoli, attraverso quelli a cui Dio dà questa autorità, si può trasmettere anche dei doni spirituali. Quindi in questo caso l'Apostolo trasmise sia il battesimo con lo Spirito Santo, sia anche il dono spirituale di profezia. Quindi ci fu questa trasmissione di questi doni a quei dodici uomini che Paolo incontrò, di quei dodici discepoli che Paolo incontrò ad Efeso. Vedete dunque come atti degli apostoli è importante, che ci fa vedere come bisogna agire, quali sono le nostre aspettazioni, quali sono i desideri, cosa noi possiamo ricevere. Vedete? Atti degli apostoli come è importante conoscere bene, nei minimi dettagli, tutti i punti di atti degli apostoli, perché c'è qualcosa di utile per la Chiesa in ogni frase che c'è in quel libro. Quindi se noi vogliamo sapere ciò che riguarda una Chiesa, come deve essere, cosa deve desiderare, come deve operare, lo possiamo vedere studiando il libro di atti degli apostoli. Il libro degli atti degli apostoli ci fa sapere anche poi le altre cose che la Chiesa opera, che i credenti operano. Ad esempio abbiamo già accennato alle guarigioni che faceva Filippo, annunziava l'Evangelo, aveva annunziato l'Evangelo ai Samaritani ed erano guariti, gli storpi erano guariti e anche i demoni venivano cacciati. Adesso facciamo un esempio, perché dagli esempi biblici la nostra fede cresce e ci rendiamo conto quello che deve fare la Chiesa, e cosa può fare se Dio opera col suo popolo. Vediamo cosa ha fatto Pietro, capitolo 3, lo zoppo al Tempio. Praticamente Pietro e Giovanni andarono al Tempio e incontrarono uno zoppo. Leggiamo dal versetto 4. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse guarda noi, ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. E in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel Tempio, camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quel che gli era avvenuto. Quindi vedete, io vi leggo questi passaggi biblici per farvi capire che questo faceva parte della Chiesa antica, ma deve fare parte anche della Chiesa di oggi. Non è che questi passaggi, questa guarigione, questa liberazione sia qualcosa che riguarda solo la Chiesa antica. No, deve essere desiderata, richiesta e operata anche dalla Chiesa oggi. Anche dalla Chiesa oggi. Quindi questo era allora e deve essere ancora oggi. Dobbiamo pregare, dobbiamo desiderare ardentemente che queste cose avvengano. Ecco che è bene che noi guardiamo al Libro degli Atti come modello di Chiesa e non ci guardiamo attorno per vedere se ci sono i calvinisti riformati con qui e con là, con certe regole che si sono dati. Si sono dati tutta una linea di regole, però biblicamente sono mancanti, siamo mancanti anche noi, ma noi ci confrontiamo con atti degli Apostoli, non con gli altri uomini. Noi ci vogliamo confrontare con la parola di Dio, noi vogliamo vedere dove sbagliamo, perché ce lo dice la parola di Dio, ce lo dice il Libro degli Atti. Cosa ci manca è quello di cui abbiamo bisogno. Non andiamo a vederlo in altri libri scritti da uomini. E che uomini poi? Come Calvino che ha messo a morte, che ha messo a morte, diciamo, diverse persone. E questo io mi devo affidare agli studi che ha fatto Calvino per sapere come mi devo condurre. Cioè non è possibile, capite? Non è attendibile, non è attendibile. Noi ci dobbiamo attenere alle Sacre Scritture. Quindi se io voglio cercare una identità di Chiesa, la devo cercare, la devo cercare nel Libro degli Atti, la devo cercare nella Bibbia. E per noi c'è il Libro degli Atti degli Apostoli. È stato scritto appositamente per questo. Non è che il Libro degli Atti è stato scritto così perché Luca non sapeva cos'altro fare. È stato scritto affinché tutte le Chiese dopo la prima avessero un elemento fermo a cui assomigliare. Ecco perché è stato scritto il Libro degli Apostoli. E le guarigioni fanno parte di quello che la Chiesa deve operare e per fare questo lo deve desiderare. Lo deve domandare e prima di tutto questo lo deve credere. Perché maggiormente il problema della Chiesa, dei membri delle Chiese, è la fede che non credono che Dio possa operare queste cose. È vero, il Dio è lui che le deve dare, i donne deve guarire lui. Non è che guariamo noi, non possiamo guarire nessuno. Però intanto una cosa possiamo fare? Chiede e credere che Dio le possa dare, che Dio possa guarire. Questo lo dobbiamo fare noi. Poi Dio farà il suo, lo distribuirà e darà questi doni quando, a chi e come vuole lui. Però quello che dobbiamo fare noi, lo dobbiamo fare noi. Quello che deve fare il Signore lo sa lui quando fare e cosa fare. Non c'è bisogno di noi gli diciamo a lui cosa deve fare. Però noi sappiamo, dobbiamo imparare noi quello che dobbiamo fare. E la scrittura ce lo insegna. E leggendoli questi passaggi ci viene il desiderio, capite? La fede. Ecco perché è importante attenersi sempre estettamente alle scritture. E quando ci accostiamo a un libro dobbiamo capire che cosa stiamo leggendo. Un libro nel senso atti, i Vangeli, il libro del Vecchio Testamento, il libro della legge. Quindi ci vuole uno studio un po' più approfondito di quello che si fa genericamente. Sto leggendo sto libro, fa parte della Bibbia. Sì, cosa stai leggendo? Demandatelo. Cosa sto leggendo? Perché lo scrittore gli ebrei ha scritto l'Epistola agli ebrei? Se no quello che c'è dentro tu non ne comprenderai il senso, capite? È importante leggere anche alcune cose per capire l'impostazione di quel tipo di lettera, di quel tipo di scritto. Perché così tu comprendendo il senso di partenza sai l'obiettivo che si poneva lo scrittore e puoi comprendere maggiormente quello che c'è scritto dentro. Ci vuole impegno. La scrittura va studiata con impegno, non va solo letta così tanto perché ce l'abbiamo e la dobbiamo leggere. No, ci vuole impegno, ci vuole impegno. Perché tanto le cose dopo, una volta che sono imparate, vi saranno utili, vi saranno sempre utili. Non vi faranno di certo smarrire. Adesso guardiamo altri miracoli, perché è giusto. Quello che operava la Chiesa allora deve operare la Chiesa oggi. Questo è il nostro confronto. Siamo mancanti, però le cose stanno così. Dobbiamo guardare alla Chiesa. Guardate cosa è successo qui, guardate. Andiamo a leggere capitolo 9 di Atti degli Apostoli, versetto 32. Ora avvenne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lida. E qui li trovò un uomo chiamato Enea, che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico. E Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto. Ed egli subito si levò e tutti gli abitanti di Lida e del Pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Vedete cosa servono i miracoli? Servono ad attirare l'attenzione, servono a far... e la conferma che Dio sta operando con quella persona e quindi devono per forza credere. Voglio dire, se hanno visto da otto anni malato quello lì, Pietro prega su lui, gli dice alzati che Gesù Cristo ti sana, dopo credono anche al messaggio di evangelizzazione che Pietro poi gli dava. Capite? A cosa servono i doni? E capite che mancando, questo perché ve lo dico, perché è importante notarlo questo? Perché non essendoci doni operanti oggi in taluna e denominazioni, cosa fanno? Si inventano il teatro, perché devono sopperire alla potenza di Dio. Allora io come li attiro le persone? Prima c'erano i miracoli, adesso cosa faccio? Prego per i miracoli? Sì, ma non so se Dio me li dà, non me li dà, non so se succedono le guarigioni. Voglio, io ho fretta, i numeri devono crescere, qui i soldi incombono. Allora cosa fanno questi? Sono inventati il teatro, i teatrini, i minimi e tante tante cose che si inventano per attirare persone da evangelizzare. Ma tutto questo è tutto una sostituzione di quello che Dio ha stabilito, capite? Cosa ha stabilito? Il Dio per una evangelizzazione efficace? La potenza dello Spirito Santo, ecco che cosa ha stabilito, ha stabilito i Suoi doni, ecco cosa ha stabilito. E noi lo dobbiamo sapere, ce lo dobbiamo ricordare, li dobbiamo avere sempre davanti a noi. Quando ci incinocchiamo in preghiera lo dobbiamo ricordare questo, lo dobbiamo ricordare. Amiamo le anime, vogliamo che il Signore salvi le anime perché questo desiderio è dentro i cuori di tutti i veri credenti. Desiderano che gli altri siano salvati, quelli che ancora non conoscono, altrimenti saranno scaraventati all'inferno. Noi sappiamo che è Dio che salva, quelli che Lui ha predestinati, quelli li salva, però noi questo non lo sappiamo. Chi sono e dobbiamo desiderare, dobbiamo annunziare l'Evangelo a tutti, quelli che incontriamo, quelli che il Signore ci spinge a parlare. E se noi avessimo la potenza dello Spirito Santo, se noi avessimo i doni di guarigioni, sarebbe meglio perché il messaggio giungerebbe con più forza, con più potenza. E questo lo dobbiamo desiderare. Quello che possiamo fare noi è confrontarci con il libro degli Atti degli Apostoli e dire, qui sono mancate, questo lo dobbiamo chiedere, ci manca. Questa cosa ci manca, lo dobbiamo domandare. Perché badate bene, quello che il Signore ha fatto ai tempi degli Atti degli Apostoli lo fa ancora oggi, lo fa ancora oggi, non è cambiato nulla. Il nostro Dio non è mutato. Il Dio non è mutato, badate bene. Lo stesso Dio che ha aperto il Mar Rosso e ha fatto passare il suo popolo come sull'asciutto e chi ha fatto dei muri d'acqua attorno a quel passaggio è lo stesso Dio di oggi. Non c'è nulla di troppo difficile per il nostro Dio. Però dobbiamo desiderare, dobbiamo credere. La fede, vedete quanto è importante la fede? Non solo per quanto riguarda alcune parti della scrittura. Ma tutta la scrittura è lì che poi si dà la differenza, capite? Noi siamo impegnati nella distruzione, nella edificazione, nella distruzione delle false dottrine. Ma altresì dobbiamo badare anche alla edificazione della Chiesa, alla edificazione della fede dei credenti della Chiesa, capite? Quindi stiamo facendo tutte le due. Però magari quello che si vede di più, l'opera che si vede maggiormente e che ci impegna maggiormente è perché dobbiamo distruggere tutte queste falsità che si sono elevate contro la verità e quindi ci ruba comunque energia, ci ruba quella forza, quel tempo, quell'energia che potevamo magari dedicare maggiormente a edificare la Chiesa, a trasmettere la fede che c'è nella parola di Dio. Però dobbiamo fare gli uni e gli altri, servono degli operai, la messa è grande, gli operai sono pochi e servono degli operai, qui bisogna dividere le risorse, distruggere le falsità e edificare la verità. Libro degli Atti è verità, quindi dobbiamo leggerlo e credere in quello che leggiamo. Se noi non leggiamo il Libro degli Atti e non ci crediamo, è chiaro che siamo... non dico che uno non è un credente, però la sua fede è poca, allora con che cosa si confronta? Allora fa bene a confruttarsi con Calvino, a prendere come modello Calvino, perché se non crede nella potenza di Dio, allora che deve fare? Si cerchi dei modelli, altri modelli che fanno per loro. Ad esempio erano cacciati anche i demoni, con la potenza dello Spirito Santo, si cacciavano anche i demoni, ad esempio Pie e Paolo, si trovò a dover cacciare anche dei demoni. Al capitolo 16 di Atti degli Apostoli, al versetto 16, sta scritto «E avvenne come andavano al luogo di orazione che incontrammo una certa serva, che aveva uno spirito indovinato, e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni». Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava «Questi uomini sono servitori degli Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo Spirito «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei». Ed esso uscì in quell'istante. Vedete? Qui c'è un altro passaggio biblico molto importante. Cosa fa sapere alla Chiesa Atti degli Apostoli? Ci fa sapere anche che già ce l'aveva detto Gesù Cristo, avevamo visto nei Vangeli, ma poi lo vediamo ripetuto nella Chiesa, lo vediamo ripetuto in Atti degli Apostoli attraverso i servitori di Dio successivi a Cristo. Quindi vediamo in questi passaggi come l'Apostolo Paolo ha cacciato via dei demoni. La prima cosa è che vediamo che i demoni possono essere cacciati. E come devono essere cacciati? Dice «Io ti comando», vedete, c'è un'autorità, una fede, un'autorità, una forza in cui il credente dà l'ordine al demone, ordina al demone. Sì, perché i demoni ci sono sottoposti, questo lo dobbiamo sapere e quando ci troveremo dobbiamo metterlo in pratica. Saperlo è un conto, metterlo in pratica è un altro, però intanto dobbiamo saperlo che questa cosa c'è e poi ci troveremo a doverlo mettere in pratica. Però se noi neanche lo sappiamo questo, come fai a metterlo in pratica se una cosa non la sai? Adesso la sai. Così fece molti giorni, Paolo Noè si voltò e disse allo Spirito «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo». Quindi non si cacciano i demoni né con l'acqua santa né con l'olio che praticamente ci fu un pastore purtroppo che attraverso un bagno caldo con olio diceva che cacciavano via sia i peccati che i demoni. Talvolta ci sono delle pratiche strane, vedete com'è importante altri degli apostoli. Così vanno cacciati i demoni, non c'è un'altra alternativa. Quindi io non devo assomigliare a qualcosa di umano, da modelli umani che ci presentano. Noi dobbiamo, nell'operare, la Chiesa deve assomigliare al libro degli atti degli apostoli, alla parola di Dio praticamente. Noi ci dobbiamo rifare a questa Chiesa che Dio ha stabilito, non a Chiese che la storia ha scritto, la storia la storia la leggiamo anche noi, prendiamo quello che c'è di buono, le testimonianze, alcune dottrine come le hanno esposte, vediamo cosa hanno scritto, però purtroppo, purtroppo molte volte quelli che dicono una cosa giusta poi ne dicono dieci sbagliate e quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti perché l'unica cosa che non fallisce mai è la parola di Dio. Quindi noi dobbiamo andare alla parola per imparare, non tanto agli uomini. Gli uomini li possiamo ascoltare, ci espongono le scritture, noi andiamo poi alle scritture, ecco perché anche chi ascolta deve farlo con coscienza, cioè si deve accertare dopo biblicamente se le cose che sono state dette sono state dette biblicamente, come facevano i bereani, no? Stare attenti e accertarsi di tutte le cose, come facevano i bereani, vi ricordate i bereani, no? Quindi, gli uomini sono dei servitori, cioè dei canali, vi trasmettono una parola, vi trasmettono un messaggio e voi dovete discernere se quel messaggio è da Dio oppure no, perché non tutti i messaggi sono da Dio, quindi bisogna discernere. Stare attenti e andare a vedere la parola, se le cose effettivamente stanno così. Quindi abbiamo visto anche che una delle opere della Chiesa è, oltre le guarigioni, anche cacciare i demoni. Poi un'altra opera importante che la Chiesa deve fare è quella di annunziare l'Evangelo, sì, perché affinché le anime si convertano. Vediamo qualche caso. Quindi, atti degli Apostoli nel caso di annunziare l'Evangelo, cosa ci fa capire? Ci fa vedere, intanto sono riportati alcuni messaggi evangelistici. Quindi, se io mi devo strutturare un messaggio evangelistico, cosa faccio? Mi vado a leggere gli uomini, cosa hanno evangelizzato, cosa hanno detto? O è preferibile andare a confrontarsi con le scritture e vedere quello che annunziava Gesù e gli Apostoli? Nel nostro caso, se prendiamo atti degli Apostoli, si vedono alcuni, si possono vedere alcuni discorsi di evangelizzazione. Noi sappiamo che chi dà la salvezza è Dio, cioè crediamo che Dio ha già prestabilito, preordinato a vita eterna, un numero di persone. Sono scritte nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Va bene? Questo è stabilito. Però quei nomi li conosce il Dio, noi non li conosciamo, a meno che Dio non ce li riveli. Ad esempio, della bestia e del falso profeta ci è rivelato che quelli non si convertiranno. Quindi è totalmente inutile che io vado ad evangelizzare se li riconoscessi, la bestia e il falso profeta. Cosa li vai a evangelizzare che si convertono? Come fai a dirgli ravvediti e credi nell'Evangelo se già lo sai con certezza che non si ravvederanno? È tempo perso e uno si affatica in vano, è inutile. Disprezzi anche la parola perché ti dimostri insensato nel fare qualcosa che non devi fare. Se è caso, se è rivelato, va bene, allora lo sappiamo. Ma se non lo sappiamo, noi annunziamo l'Evangelo, come poi hanno fatto gli Apostoli. Infatti, ad esempio, Pietro, dopo che scese lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste, ha parlato a quei giudei che lo ascoltavano. Capitolo 2, versetto 37, è scritto. Or essi, quelli quindi che hanno udito il messaggio di Pietro, or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. E dissero a Pietro e agli altri Apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Vedete, ravvedetevi. Cioè, quelli volevano sapere cosa dovevano fare per essere salvati. E Pietro gli ha detto, per avere i vostri peccati lavati e purificati dovete ravvedervi. Vedete come la parola ravvedimento è presente, non era presente solo perché lo diceva Gesù e Giovanni Battista, ma anche perché gli Apostoli successivamente, quindi nella prima Chiesa, annunziamo l'Evangelo in quella maniera. Quindi, vedete, è un esempio per noi, la prima Chiesa, anche per come si evangelizza. Quindi non è che andavano a dire, Gesù ti ama, vieni a Dio così come sei. No, no. Ecco perché è importante rassomigliare alla Chiesa di Atti degli Apostoli. Si spazzano via un sacco di immondizie, di cose false e strane, che non fanno parte del consiglio di Dio, non fanno parte della parola di Dio, non ne fanno parte. È inutile che uno insiste in quei tasti, perché quelli non sono tasti della volontà di Dio, non c'entra niente, capite? Dio non ha determinato che la Chiesa parli e operi in quella maniera. Quindi è inutile, anche perché noi sappiamo che Dio salva quando e che vuole lui. Quindi noi potremmo anche dire Gesù ti ama e Dio poi lo salva come vuole lui, però l'evangelizzazione non è quella, non è servita a niente, non sei stato obbediente alla parola di Dio, capite? Lui può salvare uguale, quello che deve salvare lo salva, ma tu non hai parlato come si conviene, non hai parlato come dice la parola e quindi non otterrai premio, capite? Hai costruito fieno e paglia, la prima fiammata tutto si brucia, non hai costruito nulla. Anche se il Signore salva, no, perché alcuni dicono, eh ma il Signore ha salvato lo stesso, ho capito, puoi parlare come vuoi, Dio salva perché ha preordinato preordinato di salvare, ma tu non ne otterrai premio, hai parlato in maniera come Dio non ha ordinato che tu parli, quindi non otterrai premio. Ad esempio, vediamo un'altra evangelizzazione, un'altra evangelizzazione di Paolo quando parla, allora, ad Atene, no? Attenzione, questo messaggio è così bello, importante, io l'ho sempre visto come un messaggio molto importante di evangelizzazione, l'ho sempre letto per cercare di assomigliargli a Paolo in questo discorso. E invece c'è stato un predicatore anche importante, famoso, che ha detto che questo discorso praticamente era un discorso filosofico carnale, voi immaginatevi voi. Allora, io dovrei vedere la mia chiesa e il mio gruppo come questi qui che parlano contro la parola, capite? Io non posso prendere, ad esempio, le assemblee di Dio in Italia come il modello di chiesa, non lo posso prendere, perché sono arrivati a dire un sacco di cose sbagliate e quindi non può essere un modello da prendere, non lo può essere assolutamente. Dobbiamo avere un modello che sia fermo, preciso, che sia valido per tutti i secoli, capite? Per sempre. E questo modello è la chiesa di atti degli apostoli, con i discorsi e con le cose, e con le debolezze anche, attenzione, perché ci sono anche delle debolezze. Quindi abbiamo visto, anzi vediamo il discorso che ha fatto Paolo, ne esaminiamo qualcosa. Agli atteniesi, praticamente, a versetto 17, 22 di atti, E Paolo, stando in pie in mezzo all'aereo pago, disse, Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare, sul quale era scritto, al Dio sconosciuto. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, Io ve l'annunzio, l'Iddio, che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del Cielo e della Terra, non abita in templi fatti d'opera di mano, e non è servito da mani d'uomini, come se avesse bisogno di alcuna cosa. Egli che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino su tutta la faccia della Terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio semmai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché Egli non sia lungi da ciascuno di noi. Di fatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietre scolpite dall'arte e dall'immaginazione umana. Il Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che Egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Poi qui non lo fecero continuare, ma guardate che messaggio! Questi sono i messaggi che noi dobbiamo studiare attentamente, dobbiamo esaminare perché è partito in quella maniera. Paolo ha parlato agli atteniesi, ha guardato la loro religiosità, è partito da quello che ha visto, che riguardava profondamente quelle persone. Ha visto che c'era addirittura un altare, un altare, c'erano tanti altari, erano molto religiosi, e c'era un altare al Dio sconosciuto. Allora, per farsi ascoltare, Paolo è partito da quel punto, dal fatto che, per catturare la loro attenzione, è partito appunto da quel Dio sconosciuto, cioè è partito parlando di qualcosa che era ben conosciuto agli atteniesi, perché il messaggio non lo conoscevano, gli atteniesi non conoscevano magari Cristo, non conoscevano la legge, non conoscevano forse la legge di Mosè, potevano anche conoscerla qualcosa, ma il messaggio di salvezza di Cristo Gesù sicuramente non lo conoscevano, e Paolo si è attrezzato nel parlare in maniera convincente, catturando la loro attenzione, ed è partito in questa maniera. Quindi, fratelli, capite bene che questo messaggio di Paolo va studiato attentamente, perché ci trasmette, ci trasmette come lo Spirito Santo ha operato in Paolo per evangelizzare, quindi noi comprendiamo con questo come ci dobbiamo comportare noi quando annunziamo l'Evangelo, capite? E non si è tirato indietro di dire che tutti gli idoli che avevano loro non erano Dio, non si è tirato indietro da dire anche a loro che dovevano ravvedersi, ravvedersi. Poi è arrivata la risurrezione e lì non ne hanno voluto più sentire, e lui ha smesso. Vedete, cosa ci insegna? Che Paolo ha continuato a parlare costringendoli ad ascoltare. No, voi la risurrezione la dovete sentire di più, devo finire. No! Come? Li hanno interrotto, se ne è andato. Basta, il suo tempo era finito. Quello Dio aveva stabilito, capite? Cos'è successo a questo messaggio? Il messaggio è successo che si convertirono. Alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio, l'aeropagita, ne avrà sentito, cioè un frequentatore dell'aeropago, praticamente, aveva sentito tanti messaggi in quell'aeropago. E che cosa l'aveva colpito di più? il messaggio di Paolo. Quindi, Dionisio, l'aeropagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Quindi, sono almeno quattro. Almeno quattro credenti. Qualcuno ha detto se ne è convertito solo uno o due. E invece, pure questo è sbagliato. Sono quattro. Minimo quattro. Più di quattro sì, ma non meno. Quindi, dobbiamo dire quello che è scritto. Noi possiamo leggere le cose così alla leggera. Quello che è scritto dobbiamo dirlo. Sono almeno quattro. Più di quattro possiamo dirlo, perché dice altri con loro, plurale. Plurale sono almeno due. Di due c'è il nome. Di altri non c'è il nome. Quindi, sono almeno due e diventano minimo quattro, ma più di quattro possono essere sicuramente. Quindi, avete visto la prima chiesa come evangelizzava. Quindi, anche la chiesa d'oggi deve evangelizzare nella stessa maniera. deve evangelizzare nella stessa maniera. Anche le autorità, ad esempio, come parlava la chiesa, gli apostoli, come parlavano alle autorità, ad esempio. Al capitolo 24, versetto 25, leggiamo come Paolo parlava a Felice, era una delle autorità di quel tempo. Paolo era già prigioniero, lo chiamava Felice per ascoltarlo cosa aveva da dire. Tra le cose che diceva, guardate cosa dice Luca, dei ragionamenti che faceva Paolo. Ma ragionando Paolo, di giustizia, di temperanza, del giudizio avvenire, Felice, tutto spaventato, spaventato, replicò, per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare. Ci sono quelli che se ti sentono parlare dell'inferno ti sgridano, ti dicono ma cosa stai facendo? Tu così spaventi, spaventi il non credente, ma l'inferno deve spaventare. Il messaggio dell'Evangelo si fa perché c'è un pericolo che è quello di cadere all'inferno ed è una cosa terribile glielo vuoi dire che se non crede nell'Evangelo viene sbattuto all'inferno? Si spaventa, ma l'inferno è messo lì per spaventare, non è che l'inferno il Dio l'ha fatto così per nasconderlo, no, per essere ben annunziato anche l'inferno affinché si spaventino coloro che lo sentono. Guardate qui il parlare di Paolo, parlava di giustizia, quindi di opere, di temperanza, quindi autocontrollo in ogni cosa, giudizio a venire, il risultato del parlare di Paolo, com'è? Che cosa apportava questo modo di parlare di Paolo? Qui dice che felice è tutto spaventato, qui stiamo parlando di un'autorità che dirigeva le guerre, che diciamo ne vedeva di cotte e di crude e non era facile spaventarli questi, ma il messaggio di Paolo lo aveva spaventato, quindi perché vengono certoni a dirci a noi ma voi parlate in una maniera da spaventare il peccatore, e allora stiamo parlando biblicamente come parlava l'Apostolo Paolo, vedete ancora una volta a chi dobbiamo assomigliare noi, alla Chiesa Antica, all'Apostolo Paolo, a tutti i credenti che operavano negli atti degli Apostoli, vedete quanto è importante, io vi sto citando solo alcuni passaggi, ma il libro degli atti è importante tutto, dalla prima riga fino all'ultima, c'è sempre un messaggio importante che noi dobbiamo sapere, capite? È importante, quindi io con questo messaggio di oggi voglio proprio trasmettervi il fatto che non dico che è obbligatorio ma è importantissimo conoscere il libro degli atti degli Apostoli, come è importante conoscere i Vangeli, attenzione, e anche le lettere dottrinali degli Apostoli, è chiaro, è tutto importante, però atti degli Apostoli assume un'importanza oggi perché alcuni cadono di fronte al fatto che non riescono a identificarsi con un gruppo che ha un'etichetta. Ecco, l'etichetta ve la sto dando io oggi, l'etichetta è Chiesa degli Atti degli Apostoli, questo devi essere, come lo erano loro, ti devi attrezzare, desiderare, pregare perché devi assomigliare obbligatoriamente alla Chiesa degli Atti degli Apostoli, non ci sono altre cose che tu devi, non ti devi girare altrove, devi guardare lì, devi guardare lì e solamente lì. Cosa succedeva? Noi abbiamo letto che Filippo aveva annunziato l'Evangelo ai Samaritani e si erano convertiti, abbiamo letto che qui Paolo ha annunziato l'Evangelo nell'Aeropago e si sono convertiti, quando una persona si convertiva cosa succedeva? Eh sì, perché dobbiamo guardare anche in seguito, dobbiamo guardare un po' tutto. Prendiamo un esempio, andiamo a leggere quello che è successo quando ha evangelizzato ha evangelizzato Filippo l'Etiopo. Filippo ha evangelizzato l'Etiopo ad esempio in un versetto leggiamo 8.34 di Atti e l'Eunuco rivolto a Filippo gli disse di chi ti prego dice questo il profeta di se stesso oppure di un altro e Filippo prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura gli annunziò Gesù e cammin facendo giunsero a una cert'acqua e l'Eunuco disse ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile l'Eunuco rispose io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio e comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua Filippo e l'Eunuco e Filippo lo battezzò e quando furono saliti fuori dell'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo e l'Eunuco continuando il suo cammino tutto allegro non lo vide più vedete qui cosa ci fa capire anche qui Filippo diciamo partendo dalla domanda che gli fece l'Etiopo annunziò Gesù che annunziò la salvezza in Gesù Cristo come fu il risultato sicuramente quando vide dell'acqua dell'acqua l'Eunuco gli disse a Filippo che cosa impedisce che io sia battezzato questo ci fa capire che Filippo gli parlò anche del battesimo in acqua che dovevano fare coloro che dopo si convertivano e l'Eunuco l'Etiopo verendo dell'acqua disse che cosa impedisce che io sia battezzato cioè voleva sapere lui se poteva essere battezzato in acqua oppure no e Filippo gli ha risposto gli ha detto le cose che impedivano le cose che erano necessarie per essere battezzati in acqua Filippo gli dice se tu credi con tutto il cuore è possibile capite cosa ci fa capire questo questo annulla completamente il battesimo in acqua dei bambini ad esempio perché qui dice uno degli elementi più importanti è che bisogna credere con tutto il cuore ora un bambino appena nato può credere con tutto il cuore non è possibile quindi a che serve poi un'altra cosa che vediamo da questo passaggio biblico è che scesero nell'acqua vedete scesero nell'acqua io non posso vedere voi vedete oggi delle vasche no che c'è quello che da fuori il battezzante è fuori fa immerge nella vasca quell'altro e poi lo ritira fuori va bene non sono d'accordo neanche con questo perché qui dice scesero ambe due nell'acqua quindi si deve bagnare anche chi battezza non è che possiamo evitare di bagnarci qui bisogna fare come scritto ci vuole un'acqua sufficiente per immergersi e ci vuole un'acqua sufficiente per entrare tutte e due nell'acqua ci vuole ci vuole questa attrezzatura che se la vogliamo creare in comunità se no andiamo in un fiume andiamo al mare andiamo dove c'è l'acqua e dove ce n'è in abbondanza dove possono entrare tutte e due in acqua e dove si può essere immersi completamente attenzione completamente perché non rimanere metà di fuori non posso io prendo le braccia come taluni fanno gli scende le braccia rimangono fuori non si può devono essere immersi completamente come un morto quando viene seppellito viene seppellito completamente non con le braccia di fuori questo errore cosa significa chi fa questi errori cosa significa che non ha la giusta non tiene la giusta considerazione del battesimo in acqua e non sa cosa sia praticamente chi battezza chi viene battezzato gli si può spiegare come sicuramente qui Filippo avrà spiegato in breve non si sa in quanto tempo gli ha parlato però ha capito cioè dalle domande che fece Leunuco quelle parole che Filippo ha detto Leunuco l'etiopo le ha capite bene e lui ha voluto essere battezzato infatti la risposta che diede a Filippo fu quella io io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio credete capite credete in Gesù Cristo e Filippo lo battezzò e non non c'erano più elementi che lo potevano fermare dall'essere battezzato e quindi e quindi lo battezzò lo battezzò vedete la conversione di dell'etiopo col battesimo in acqua e quello che avvenne vedete come atti degli apostoli ci insegna anche questo cosa ci insegna ancora atti degli apostoli abbiamo visto quello di Cornelio vi ricordate Pietro abbiamo letto la parte terminale di Cornelio ma è da leggere per quanto riguarda la sua conversione come è avvenuta anche all'inizio che cosa ci serve sapere anche quello che è avvenuto a Cornelio che praticamente può avvenire ancora oggi il Dio può dare un sogno una visione a un non credente e gli dice vai a chiamare Aldo vai a chiamare Gianluca vai a chiamare Giuseppe vai a chiamare Massimo che ti deve annunziare l'Evangelo per il quale tu sarai salvato non ci deve cogliere di sorpresa questo fatto perché Dio fa come è scritto nella sua parola la conferma egli fa in quella maniera non fa diversamente e quindi dobbiamo conoscere come Dio opera il Dio ha dato una visione a Cornelio Cornelio ha fatto chiamare a Pietro Pietro andò a casa di Cornelio annunziò l'Evangelo e si convertirono Cornelio e tutti quelli di casa sua e poi furono battezzati con lo Spirito Santo quello avvenne vedete un'altra cosa da considerare ad esempio ad esempio cosa avviene in colui che ascolta il messaggio sempre siamo fermi sempre in Atti degli Apostoli leggendo il capitolo 16 di Atti al versetto 14 c'è scritto è una certa donna di nome Lidia negoziante di porpora della città di Tiatiri che temeva Dio ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e dopo che fu battezzata con quei di casa ci pregò dicendo se mi avete giudicato fedele al Signore entrate in casa mia e dimoratevi vedete cosa accade quando uno parla a un eletto quando uno parla a una persona che è eletta e ancora però non è salvata può succedere questo il Dio il Dio gli apre il cuore per ascoltare e credere nel messaggio che gli viene dato quindi noi comprendiamo anche da questo passaggio che il messaggio è importante ci dobbiamo impegnare dobbiamo dare il messaggio con pienezza di convinzione un messaggio veritiero un messaggio biblico un messaggio di ravvedimento ma alla fine quello che conta che cos'è? è Dio che interviene nell'ascoltatore che gli apre il cuore e la mente per intendere quello che tu gli stai dicendo la parola lo Spirito Santo opera in lui e la parola penetra nel suo cuore portando la salvezza praticamente e quindi vedete cosa accade quello che noi crediamo accade vedete accadeva nella Chiesa e Dio ce lo fa sapere anche attraverso atti degli Apostoli non lo sappiamo solo attraverso capitolo 9 di Romani dove si parla della predestinazione ma lo sappiamo anche attraverso quello che accadeva realmente di cui ci sono i passi segnati in atti degli Apostoli vedete quindi è importantissimo perché comunque tutto quadra alla fine la somma della parola è tutta quadrante insieme tutto insieme non si contraddice è tutto confermato l'uno conferma l'altro abbiamo visto adesso per quanto riguarda la Chiesa abbiamo visto che ci sono stati dei problemi ci sono stati dei problemi abbiamo citato prima le vedove dei greci erano erano trascurate hanno mormorato e hanno trovato la soluzione e quindi hanno trovato i sette diaconi che servissero alle mense per non trascurare nessuno vedete il problema c'era quindi la Chiesa deve al suo interno come lo aveva anche la prima Chiesa aveva delle problematiche che doveva risolvere doveva risolvere poi la Chiesa si trova a dover affrontare anche problematiche di eresie ad esempio al capitolo 15 di Atti degli Apostoli ci fu una conferenza a Gerusalemme cosa avvenne? avvenne al versetto 6 allora gli apostoli gli anziani perché come parte il tutto? parte il tutto che c'erano i giudaizzanti praticamente dicevano che anche i gentili che i gentili per essere salvati dovevano credere sì però poi dovevano anche farsi circoncidere e credere praticamente anche nella legge di Mosè per essere salvati quindi all'epoca non era una cosa oggi per noi magari l'abbiamo studiata di più ed è normale che non sia così che la salvezza non si attiene tramite la circoncisione perché la circoncisione l'abbiamo ricevuta nel nostro cuore nel momento in cui siamo nati di nuovo i veri circoncisi siamo noi che siamo nati di nuovo però all'epoca era un problema c'era un problema che coinvolgeva le comunità che coinvolgeva il rapporto tra giudei e gentili perché il cristianesimo era comunque una ramificazione praticamente una no cioè noi sappiamo che il cristianesimo è il compimento della legge di Mosè cioè la legge di Mosè che viene viene portata a compimento però per i giudei il cristianesimo è una devianza no una devianza del giudaismo ora i primi tempi non era così semplice come magari oggi però però hanno dovuto affrontare questi problemi vedete la chiesa tutti insieme non solo uno due o tre quando si agisce con casi di disciplina quando si agisce con casi di eresie bisogna essere uniti bisogna che tutti partecipano bisogna che tutti che tutti diciamo diano il loro contributo il loro contributo che lo diano naturalmente non per dare fastidio per fare confusione o per mostrare se stessi ma devono essere devono ascoltare devono parlare quelli che devono parlare e dopo devono bisogna valutare le cose come stanno quando c'è un caso da esaminare quando ci sono dei casi sia disciplinari come è successo da poco e come sia quei casi di eresia vanno affrontati insieme c'è questa eresia cosa facciamo cosa non facciamo come stanno le scritture e quindi si espone la sana dottrina vengono eliminate eliminate quelle eresie che devono essere eliminate dalla chiesa che purtroppo talvolta possono penetrare e allora cos'è successo stava penetrando nella chiesa questa delle eresie praticamente come hanno operato la chiesa allora versetto 6 15 6 di atti allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione vedete gli apostoli e gli anziani ed essendone nata una gran discussione Pietro si levò in piedi e disse loro e poi ci fu tutto un discorso che arrivò praticamente a determinare a scrivere ai gentili queste cose qui quindi leggiamo versetto versetto 22 allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti tra loro cioè Giuda soprannominato Barsabba e Sila uomini autorevoli tra i fratelli e scrissero così per loro mezze gli apostoli e i fratelli anziani ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia in Silia ed in Cilicia salute poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato con i loro discorsi sconvolgendo le anime vostre benché non avessimo dato loro mandato di sorta è parso bene a noi riuniti di comuni accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo vi abbiamo dunque mandato giù di Sila anch'essi vi diranno a voce le medesime cose poiché è parso bene allo Spirito Santo ed a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue dalle cose soffocate e dalla fornicazione dalle quale cose ben farete a guardarvi state sani quindi queste furono le cose che furono imposte anche ai gentili non ne nacque quindi una discussione e si riunirono e gli anziani insieme agli apostoli praticamente gli uomini più autorevoli hanno dovuto prendere una decisione perché questa riguardava non che tutta la Chiesa non doveva saperlo ma il fatto che magari certe decisioni no i più autorevoli giustamente cioè uno appena convertito non ha l'autorità di un dottore della parola nel poter decidere se una dottrina è eresia oppure no capite quindi bisogna anche capire anche queste cose no bisogna che la Chiesa comprenda come bisogna comportarsi quindi gli anziani ad esempio c'erano gli apostoli però non è che hanno estromesso gli anziani che erano comunque delle persone autorevoli capite gli anziani gli apostoli non erano da soli non facevano tutto loro ma c'erano anche gli anziani gli anziani tra questi anziani c'erano anche dei pastori sicuramente chiama tutti anziani perché diciamo nel nuovo testamento di pastori non se ne parla però si parla di anziani che pasturano la la chiesa e si parla di un ministerio di pastore che serve appunto per pasturare la chiesa quindi sicuramente il pastore possiamo dire che è uno degli anziani che pastura la chiesa e tra questi anziani insieme agli apostoli hanno studiato il problema dottrinale e hanno trovato alla fine una soluzione hanno trovato una soluzione e dopo l'hanno comunicata a chi doveva sentire chi doveva sapere questa risposta chi stava aspettando la risposta un'altra cosa ad esempio che la scrittura ci comunica sono determinate sono determinate cose ad esempio la scrittura anche gli atti degli apostoli quindi vediamo la debolezza della chiesa e si perché è importante perché noi abbiamo visto una chiesa potente una chiesa che evangelizza abbiamo visto migliaia di persone leggiamo negli atti degli apostoli migliaia di persone che si convertono la potenza di operare miracoli guarigione liberazione risurrezione dei morti Tabita è stata risuscitata dai morti da Pietro abbiamo visto tante cose allora uno dice se c'era solo tutto questo uno poteva dire ma la mia chiesa è proprio lontana mille miglia da questa chiesa cioè non sono umani questi e invece no erano umani erano deboli sbagliavano peccavano discutevano litigavano anche l'Apostolo Paolo con l'Apostolo Barnaba di cui prima abbiamo visto che furono scelti chiamati dallo Spirito Santo al Ministerio di Apostolo vediamo cosa successe al capitolo 15 dal versetto 36 e dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola della parola del Signore per vedere come stanno Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco ma Paolo giudicava che non dovessero prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera e ne nacque un'astra contesa tanto che si separarono e Barnaba preso secco Marco navigò verso Cipro ma Paolo scelto Sissila partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore vedete cosa è successo è successo per una questione che possiamo anche dire futile una questione non così importante cioè Marco deve venire a collaborare con noi o no questo fu oggetto di grande discussione tra Paolo e Barnaba dal punto che si separarono con questo non vuol dire che Barnaba non era più apostolo non era più credente non era più in comunione spirituale no però è avvenuta ugualmente una separazione vedete c'è stata una separazione tra Paolo e Barnaba cosa ci fa capire questo ci fa capire che erano degli uomini anche loro erano uomini anche quegli apostoli anche la Chiesa antica benché operante in loro la potenza dello Spirito Santo pure erano uomini quindi sbagliavano e quindi commettevano degli errori come li possiamo commettere anche noi oggi anche le Chiese nei secoli successivi avrebbero commesso degli errori ma nulla da da gettarsi per terra e dire abbiamo fallito non andiamo più avanti no anche anticamente succedevano determinate cose e quindi questo bisognava saperlo ad esempio di scandali di persone che commettevano che commettevano degli scandali ad esempio ricordiamo il fatto di Anania e Safira no vi ricordate questi due uomini scusate questo marito e moglie praticamente avevano mentito allo Spirito Santo dopo che mentirono allo Spirito Santo vendettero un terreno e diedero una parte del prezzo cioè facendo credere agli apostoli che avevano dato tutto il prezzo del potere attenzione se Anania e Safira si tenevano il terreno non succedeva nulla se vendevano il terreno e si tenevano tutti i soldi loro non sarebbe successo nulla se dicevano a Pietro ho venduto il terreno metà te lo do a te e metà me lo tengo io non succedeva nulla lo stesso l'errore dove fu si si vollero spacciare come spirituali nel senso che hanno ingannato Pietro hanno mentito allo Spirito Santo facendosi sembrare che avevano dato tutto quando invece una parte del prezzo della vendita del terreno se l'erano ottenuto loro questo cosa ha fatto ha fatto sì che che venisse su di loro un giudizio un grave giudizio infatti c'è scritto ma capitolo 5 di Atti ma un certo uomo chiamato Anania con Safira la sua moglie vendè un possesso e tenne per sé parte del prezzo essendone consapevole anche la moglie e portatene una parte la pose ai piedi degli apostoli ma Pietro disse Anania perché a Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del podere se questo restava invenduto non restava tuo e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere perché ti sei messa in cuore questa cosa tu non hai mentito agli uomini ma a Dio e Anania udendo queste parole cadde e spirò poi alla moglie Safira accadde la stessa cosa vedete praticamente c'erano anche allora quelli che scandalizzavano quelli che amavano il denaro quelli che volevano sembrare più spirituali quelli che volevano sembrare che aiutavano invece poi non aiutavano non aiutavano come dovevano si gonfiavano in maniera superiore a quello che in realtà erano però guardate bene cosa succedeva cioè poi scendevano i giudizi di Dio cosa servivano i giudizi di Dio i giudizi di Dio guardate cosa è scritto al versetto 5 capitolo 5 versetto 11 e gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose capite quindi i giudizi di Dio fanno scendere quindi sono presenti anche i giudizi di Dio nella chiesa vedete nei confronti di coloro che peccano e che sbagliano e sì quelli che commettono determinate cose gravi il Dio li punisce gravemente li punisce severamente capite quindi vedete in atti degli apostoli ci dice anche cosa può succedere cosa bisogna stare attenti a non fare non bisogna ingannare i fratelli ingannare i fratelli vuol dire che stai cercando di ingannare Dio lo spirito santo stai mentendo e non si può fare non si può fare la chiesa un'altra cosa che deve sapere qual è col quale deve fare i conti e deve saperlo guardando sempre al libro degli atti degli apostoli deve sapere che quando opera efficacemente quando la sua opera contrasta il maligno si attira dell'invidia e anche della persecuzione e questo deve sapere la chiesa perché fino adesso abbiamo parlato di cose positive poi ci sono gli scandali ma ci sono anche delle cose che si possono attirare che la chiesa si attira ad esempio una delle cose più forti e più comuni che i santi uomini di Dio attirano contro di loro è l'invidia della gente cioè le persone ci sono talune persone che hanno questo sentimento nel loro cuore l'invidia è un sentimento di tristezza è un sentimento profondo interiore di tristezza di dolore provano dolore e tristezza quando vedono gli altri che stanno bene e che sono felici e che riescono a compiere determinate opere ecco così la tristezza è un profondo sentimento negativo negativo naturalmente che è nei confronti un sentimento negativo nei confronti di altri che riescono in qualcosa che gli viene bene qualcosa che sono anche felici nel fare quella cosa ci sono quelli che invidiano e questa invidia porta la calunnia porta a danneggiare l'opera della chiesa quindi se sono esterni a noi ci calunnino e ci attaccano dall'esterno ma talvolta qualcuno scatta dall'interno perché alcuno di quelli che ci ha lasciati fondamentalmente ci ha lasciati perché è scattato in lui un'invidia non potendo raggiungere livelli che magari pensava di raggiungere di diventare un'autorità maggiore di quello che magari era si sentiva chissà di diventare chissà che cosa comprendendo che non poteva raggiungerlo l'invidia ha portato a parlare contro qualcuno e poi a ritirarsi e succede l'invidia uno dei sentimenti più comuni all'interno purtroppo dei religiosi della chiesa è l'invidia quando vedo un altro che riesce in qualcosa viene invidiato viene canognato si cerca di distruggerlo e questo bisogna saperlo bisogna sapere che c'è anche questo sentimento e noi naturalmente non dobbiamo sentire queste cose dentro di noi non le dobbiamo sentire fate attenzione perché l'invidia poi ti distrugge ti distrugge dentro è la carie delle ossa capite quindi ti distrugge interiormente tu non riesci a godere di quello che hai e ti scagli contro quello che hanno gli altri quindi fai una vita misera povera inutile tanto uno basta che chiede al Signore non è che tutti possiamo fare la medesima cosa non siamo tutti dottori non è che possiamo fare tutti la stessa opera che fa per dire Giacinto che fa un altro fratello non possiamo fare tutti quello che faceva l'Apostolo Paolo c'era Paolo poi c'erano gli assistenti di Paolo cioè già essere assistenti o pregavano per Paolo o facevano altre cose per il Signore già va bene quindi perché invidiare cioè tutti devono lavorare secondo i doni che gli vengono donati da Dio non posso scagliarmi contro un fratello perché sa delle cose fa delle cose che io non faccio vorrà dire che il Signore mi ha stabilito altre cose farò altro cioè non possiamo fare tutti la medesima cosa come in un corpo non tutti i membri sono uguali cioè ogni membro ha una sua specifica funzione e sono tutti utili tutti utili i membri la loro funzione è utile è utile molto ad esempio la funzione che hanno le donne le mogli all'interno di una famiglia ma è fondamentale perché se sei un ministro sei un servitore di Dio sei un anziano un diacono ha una moglie che lo assiste lo aiuta lui può compiere l'opera in maniera più libere il lavoro della moglie non si vede però però si deve sapere anche questo che che praticamente un uomo di Dio che è sposato può fare bene il servizio nel Signore solamente se la moglie lo assiste perché se la moglie lo contrasta non può fare nulla non riesce a fare nulla non ce la fa non ce la fa ecco perché perché è importante anche l'opera delle sorelle le sorelle possono non possono insegnare ad esempio però possono assumere l'ufficio di diacono di anziano no perché l'anziano deve insegnare possono ricevere il ministerio di profeta e sì le sorelle possono desiderare ricevere il ministerio di profeta è importante questo perché il ministerio è aperto anche alle donne vedete però è aperto per quello che possono fare capite per quello che Dio ha stabilito che la donna faccia ma attenzione non è che tutti gli uomini possono insegnare con questo non vuol dire che tutti gli uomini devono obbligatoriamente insegnare no anche tra gli uomini possono insegnare solo quelli a cui Dio gli ha dato il dono di insegnare se non gli viene dato come fanno a insegnare quindi vedete anche tra gli uomini ci sono quelli esclusi che non possono insegnare quindi non è una lotta tra uomo e donna qua tra l'eterna lotta uomo e donna no di superiorità dell'uno dell'altro no è che Dio ha stabilito così ha stabilito così anche tra gli uomini non tutti possono insegnare la parola e allora non è che sono superiori quelli che insegnano sono superiori agli altri no e Dio ha stabilito così un incarico gli altri faranno gli sarà dato altri incarichi che saranno comunque utili per la Chiesa alla fine gli ultimi saranno i primi cioè quelli che addirittura la scrittura dice anche questo quelli che sono meno visibili nell'opera che si fa praticamente riceveranno anche premio maggiore cioè saranno pure i primi nel regno dei cieli quindi non c'è da invidiare se uno predica e l'altro no non c'è niente da invidiare non c'è niente perché il Dio ha stabilito le cose nella Chiesa come ha voluto lui gli organi ha stabilito gli organi nel corpo umano come ha voluto lui quindi quindi anche noi dobbiamo sottostare e sottometterci a quello che Dio ha stabilito ha stabilito per noi abbiamo parlato dell'invidia vediamo gli effetti che ha portato l'invidia no perché degli apostoli ci parla anche di questa invidia che scatta guardate cosa succede capitolo 5 versetto 17 or il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui cioè la setta dei sarducei si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica vedete praticamente che cosa fa in cioè perché uno dei motivi per cui una chiesa un gruppo di persone viene viene perseguitato viene viene diciamo maltrattato viene maltrattato per l'invidia capite perché molti si scagliano contro di noi non ve lo siete mai domandato ebbene si scagliano contro di noi la maggior parte si scaglia contro di noi per invidia per invidia e cosa abbiamo noi che non abbiamo ricevuto noi tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto da Dio non abbiamo non facciamo di tutto per avere l'approvazione anzi noi cacciamo via siamo duri esortiamo la santificazione ammoniamo sgridiamo le persone eppure vengono accettano cosa sta succedendo che quando eravamo pochissimi nessuno ci badava a noi ma adesso ma perché perché la verità è la parola che sta avanzando è la verità che compunge i cuori non sono gli uomini ma la verità dell'iddio vivente è vero è la verità che sta entrando nei cuori perché se noi scriviamo la verità e dagli oggi e dai domani quella si sparge e poi compie la sua opera nei cuori degli uomini quindi se il numero di quelli che credono nella predestinazione faccio un esempio di quelli che cominciano a mettersi il velo le donne di quelli che cominciano a credere a determinate altre cose o anche nella perdita della salvezza si aumenta il numero di quelli che credono in questa dottrina che prima magari erano di meno lo fanno perché non perché siamo stati bravi noi a parlare ma perché la verità della parola ma gli altri cosa fanno quelli che non accettano il messaggio provano invidia un sentimento profondo di dolore e tristezza nei confronti nostri che stiamo raggiungendo determinato risultato ecco perché parlano e ci calunniano in tutte quelle maniere perché provano invidia nei nostri confronti invidia e questo è uno degli elementi perché sono stati incarcerati Pietro perché misero le mani qui sopra gli apostoli perché qui qui dice pieni di invidia misero le mani sopra gli apostoli vedete vediamo altri casi sempre di invidia e c'è anche questo invidia che poi scatta in persecuzione l'invidia può far scattare la calunnia cioè parlano male di te di noi per distruggerci va bene per distruggere la nostra reputazione per distruggere la nostra persona per invidia se potessero ci perseguitavano come faceva Calvino poi all'epoca di Ginevra che metteva pure a morte quelle che non la pensavano come lui attenzione noi ci limitiamo a espellere dal nostro mezzo coloro che non credono come noi è chiaro ma questo mi sembra anche una cosa giusta cioè che ci sta a fare uno in mezzo a noi se è contro di noi dottrinalmente oppure se è completamente disordinato lo sanno lo sanno lo sanno anche le pietre quello che noi chiediamo chiediamo un certo comportamento una certa condotta una certa dottrina quello che crediamo è tutto pubblico cosa vi avvicinate a fare se non volete credere a quello che noi insegniamo andate dove credono come voi non ci costringete voi a cacciarvi noi appena scopriamo che quella è una zavorra che sono gente che non vuole attenersi alla verità le dobbiamo mandare via no capite perché questo comunque per tornare all'invidia leggiamo questi altri passi che parlano di invidia cosa è successo è successo che praticamente Paolo si presenta nella sinagoga di Antiochia di Pisidia e si mise a parlare e praticamente lo invitarono a parlare anche il sabato successivo cosa è successo è successo che quando al versetto 42 13 42 di Atti è scritto or mentre uscivano furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente e dopo che la raunanza si fu sciolta molti dei giudei e dei proseliti pi seguirono Paolo e Barnaba i quali parlando loro li persuasero a perseverare nella grazia di Dio e il sabato seguente quasi tutta la città guardate un po' prima andarono a parlare nella sinagoga poi l'invità talmente parlarono in maniera efficace che addirittura il sabato seguente guardate cosa è successo il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio ma i giudei vedendo le moltitudini furono ripieni d'invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo vedete vedete cosa succede succede che uno annuncia la parola ma mica i numeri li facciamo noi noi non facciamo numeri noi annunziamo l'Evangelo pubblichiamo su internet la verità chi la vuole leggere accettare è lì cosa succede succede che è così ultimamente i numeri stanno anche crescendo perché la verità che si sta facendo breccia nei cuori degli uomini non è che siamo noi che andiamo a casa della gente e siamo bravi nel parlare no ma è essenzialmente la verità della parola che si fa breccia nei cuori degli uomini e allora cosa succede i nemici aumentano sono sempre più furiosi per quale motivo per quale motivo non si scagliano nella stessa maniera faccio un esempio contro i cattolici ma voi notate che ci sono noi parliamo contro tutti è così ci accusano ed è vero l'accusa la riconosciamo noi parliamo contro tutte le eresie cattolici mormoni buddhisti evangelici di ogni genere tipo ma alcuni invece parlano solo contro di noi solo contro di noi hanno preso la fissa contro di noi per quale motivo perché sono invidiosi hanno cominciato a vedere che ci sono dei numeri delle moltitudini hanno fatto come questi giudei che vedendo le moltitudini sono ripieni di invidia che ricordo e quel sentimento profondo di tristezza quando gli altri gli vanno bene le cose quindi provano dolore se tu vai bene se tu predichi bene se tu aiuti un fratello con la parola gli trasmetti una conoscenza ci sono gli invidiosi che soffrono per queste cose non sono contenti e queste sono le cose che accadono oggi questo è quello che noi vediamo ma lo dobbiamo sapere perché così ne conosciamo la fonte di certi modi di parlare di talunghi capite la fonte è quella non c'è non ci sono altre cose questa questa invidia a cosa porta poi questa invidia poi porta prima a parlare si contrappongono bestemmiano parlano contro di noi calugniano poi arriva può arrivare ad esempio ancora noi non è che siamo arrivati a ricevere delle vere e proprie persecuzioni fisiche però gli atti degli apostoli ci dimostra che si può arrivare anche a quello quindi adesso leggiamo che una delle conseguenze che può subire una chiesa che comincia a crescere può subire anche delle persecuzioni fisiche quindi dobbiamo saperlo perché ci dobbiamo anche preparare anche a questo cosa è successo capitolo 4 versetto 1 di atti ne citeremo un paio di queste persecuzioni or mentre si parlavano al popolo i sacerdoti e il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero essendo molto cruciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente perché già era sera vedete furono imprigionati poi furono liberati perché non commiserono nulla annunziavano solo l'Evangelo era praticamente questa persecuzione scattò dopo la guarigione dello zoppo nel tempio della porta detta bella di cui abbiamo parlato prima quindi vedete da una parte c'è l'opera potente di Dio e dobbiamo considerare anche questo che quando se già ti invidiano adesso che hai solo un annunzio della verità e lo possono fare anche gli altri non è che la Bibbia ce l'abbiamo solo noi non è che la verità ce l'abbiamo solo noi il problema è che siamo solo noi a dire la verità e questa è la differenza la verità ce l'avete solo voi no questa è l'accusa una delle accuse le calunnie che ci lanciano solo voi avete la verità no ma a me mi sembra che solo noi annunziamo la verità però perché gli altri non l'annunziano perché non non annunziano l'evangelo col ravvedimento perché se no l'altro si scandalizza lì il peccatore si sente perduto e ha paura non annunziano la santificazione perché se no quelli delle comunità praticamente se ne vanno perché non si vogliono santificare non applicano la disciplina e noi la applichiamo ma che volete non è che noi abbiamo la verità non siamo gli unici detentori dalla verità però siamo tra i pochi magari non diciamo unici ma tra i pochi che però l'annunziano la verità e questo sì lo dobbiamo dire con le nostre debolezze perché siamo sbagliamo tutti in molte cose chi non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto non siamo perfetti quindi nel parlare c'è sempre qualche errore ma il fatto è che la verità però chi la sta annunziando chi ha iniziato a annunziare con franchezza tutta la verità tutto quello che si sta diffondendo adesso sul web chi? loro? l'hanno difeso loro? Spurgeon quando è stato manipolato l'hanno difeso queste persone qui i riformati l'hanno difeso no forse lo sapevano ma hanno taciuto allora che non venissero a dire che solo noi abbiamo la verità diciamo questo che noi abbiamo avuto il coraggio di annunziare la verità ecco la differenza dove sta la verità ce l'hanno tutti nelle mani è la parola di Dio però ad annunziarla la verità ce ne passa non hanno il coraggio e allora si scagliano per invidia per calumniare per distruggere l'opera che noi stiamo facendo capite? e questo succede e può giungere talvolta questa invidia questa odio anche perché poi si sentono loro stessi ripresi e quindi passano dall'invidia all'odio con una facilità impressionante e se potessero ci perseguitavano come ci avrebbero perseguitati come sono stati perseguitati quelli della Chiesa Antica è il nostro modello quindi ci dobbiamo aspettare che quando comincerà a operare potentemente lo Spirito Santo non è come conseguenza c'è questo quindi ricordatevelo adesso si è vero lo Spirito Santo non sta operando però siamo anche liberi perché quando comincerà a operare lo Spirito Santo può darsi che rischiamo di non rimanere liberi più quindi quindi preghiamo perché lo Spirito Santo operi cioè non preghiamo lo Spirito Santo preghiamo il Dio che faccia manifestare lo Spirito Santo che dia le conferme potenti alla sua Chiesa però preghiamo anche che Dio ci dia la forza di superare ogni difficoltà ogni persecuzione ogni attacco ogni calunnia ogni invidia che ci troveremo davanti che cercherà di spezzarci le gambe di fermare la nostra corsa in tutte le maniere Pietro e Giovanni sono andati in carcere addirittura Stefano guardate Stefano anche devi sempre ricordarlo Stefano Stefano quando leggete atti degli apostoli fermatevi bene a leggere tutto quello che è successo a Stefano perché è uno dei martiri della verità di aver detto di aver annunziato la verità con franchezza quindi non leggo tutto il discorso ho fatto tutto un discorso agli anziani Stefano e qual è stata che cosa ha suscitato il discorso di Stefano fatto con franchezza e con verità nei giudei che ascoltava lo vediamo capitolo 7 versetto 54 di atti degli apostoli essi udendo queste cose fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui ma egli essendo pieno dello Spirito Santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra alla destra di Dio e disse ecco io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo in pie alla destra di Dio ma essi gettando di gran gridi si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e cacciatolo fuor della città si diedero a lapidare e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signor Gesù ricevi il mio spirito poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce Signore non imputar loro questo peccato e detto questo si addormentò vedete vedete parlare francamente cosa può succedere e capite perché taluni non parlano francamente lo scopo è questo fratelli cioè noi parliamo francamente e ci attiviamo l'odio della gente quelli che sanno bene che parlando francamente dicendo la verità si attirano l'odio della gente non parlano così lo zinghiano e quindi non sono perseguitati non sono calunniati non sono invidiati non sono diciamo additati come come una fetta come tutti quei discorsi che fanno e la situazione è questa chi parla francamente si attira contro di sé l'azione del diavolo praticamente il diavolo servendosi delle persone deboli talvolta qualcuno cade anche nel mezzo di noi viene sedotto dal diavolo fa spazio al diavolo non gli resiste al diavolo e quindi il diavolo si impossessa di lui e lo fa venire contro di noi ci vuole distruggere questi giorni abbiamo vissuto proprio questa opera un'opera dall'interno distruttiva che ha cercato di spezzare l'unione che c'era tra noi per scoraggiare chi lavora per scoraggiare chi parla per scoraggiare chi predica per scoraggiare anche i fratelli che seguono per creare scompiglio nel nostro campo però ringraziamo il Dio che il piano non è riuscito completamente come il diavolo voleva portarlo avanti ed è riuscito solo un alleggerimento del nostro carro abbiamo soltanto alleggerito la nostra barca remi l'abbiamo alleggerita così non c'è più nessuno che ci rema contro praticamente sicuramente all'ombra quando nessuno li vedeva remavano contro e quindi facevano i loro danni così adesso non possono più remarci dall'interno possono insultarci invidiarci solo da fuori quindi questa è la conseguenza l'invidia che porta poi alla perseguzione e io vi ho voluto oggi poi voglio farvi un ultimo discorso conclusivo ho voluto presentarvi a un discorso abbastanza lungo quello di oggi purtroppo però dovevo farlo perché si stava creando sicuramente qualcuno cominciava a sentire una necessità di identificarsi con qualcuno ecco se uno si deve identificare adesso sa che si deve identificare con la chiesa antica la chiesa apostolica la prima chiesa dopo Cristo quella è la chiesa che dobbiamo noi assomigliare perché se uno si gira va bene e dice io voglio io non mi sento più di stare sul nulla non mi sento più di stare senza etichette tu non fai altro che uno che fa così che vuole per forza aderire a un qualcosa di storico come i punti calvinisti come le cose di Westminster o o quelli di Dordrecht del 1689 o 18 19 quello che è uno che per forza vuole un'etichetta per essere riconosciuto storicamente sta facendo la stessa opera la stessa opera che ha fatto il popolo di Israele quando ha rigettato quando ha chiesto un re e questo lo leggiamo in prima Samuele capitolo prima Samuele capitolo 8 quando Israele chiede un altro re cosa è successo è successo che tutte le nazioni attorno a Israele avevano un re Israele invece cosa aveva dei giudici non aveva un vero e proprio re perché aveva dei giudici perché il re di Israele chi era chi era il re di Israele il re di Israele era lì Dio vivente ecco perché non aveva un re umano perché c'era un re ed era Dio quando il popolo di Israele chiese un altro re chiese un re umano che si vedesse che andasse davanti a loro in battaglia perché Dio non andava davanti a loro in battaglia no? cosa è successo? è successo che cosa è avvenuto? è avvenuto che il popolo di Israele ha rinnegato Dio come re capite? quindi oggi cosa succede? succede che se uno cerca un'etichetta umana della sua denominazione non fa altro che rigettare la chiesa antica perché noi già abbiamo la Bibbia dove si parla della chiesa noi siamo la prosecuzione capite? la prosecuzione di quella chiesa siamo i discennenti i figlioli di quella chiesa non dobbiamo cercare altre etichette chi la cerca non fa altro che rinnegare quella chiesa rinnegare il Dio che ha costituito quella chiesa per farsi da sé un'altra chiesa un'altra etichetta capite? per farsi da sé per prendersi un onore umano che non gli compete che non ha quindi rinnega un'opera che Dio ha fatto atti degli apostoli rinnega atti degli apostoli e non è raro vedere comunità intere che non parlano mai del libro degli atti degli apostoli e anzi sono molti quelli che omettono tranne qualche piccolo passaggio omettono proprio di leggere e diciamo non esortano i fratelli a studiare il libro degli atti degli apostoli perché? perché la differenza che i credenti vedrebbero nel leggere gli atti degli apostoli con la chiesa che frequentano oggi sarebbe così enorme che cadrebbero in crisi direbbero ma come esiste tutta questa differenza noi evangelizziamo con i mimi e con le scenette teatrali invece gli apostoli annunziano l'evangelo con la potenza dello spirito santo cioè vi capite capite bene che differenza c'è una differenza enorme una differenza enorme quindi il libro degli atti è tra quei libri che viene tenuto un po' nascosto un po' nascosto ma adesso era arrivato il momento che uscisse fuori anche tra di noi perché è utile avere comunque una identificazione precisa nella scrittura noi non siamo né butindariani non siamo niente ci chiamano gli altri così noi siamo cristiani ci definiamo cristiani evangelici siamo pentecostali perché crediamo nella potenza siamo fondamentalisti perché ci atteniamo ai fondamenti della scrittura possiamo dare tanti titoli ma la nostra provenienza il nostro collegamento con la storia qual è? atti degli apostoli e questo è il nostro collegamento nell'intermezzo sicuramente ci sono sempre stati dei gruppi come noi non c'era internet e quindi erano magari pochi gruppi piccoli gruppi qua e là sparsi per la faccia della terra che credevano in queste cose ci sono stati io credo che Dio sia sempre riservato in ogni epoca i suoi settemila uomini che si sono attenuti ai suoi comandamenti alla sua parola quindi magari non ne conosciamo i nomi non sappiamo chi sono però ci saranno sicuramente stati oggi è quello che ci riguarda noi oggi siamo noi che dobbiamo scegliere dove identificarci che etichetta ci dobbiamo dare chi siamo noi con che ci dobbiamo identificare atti degli apostoli con la prima chiesa quella della nostra chiesa noi crediamo in tutto quello che è scritto nella parola in tutto quello che hanno fatto in atti degli apostoli evitando gli errori è chiaro risolvendo i problemi come hanno risolto loro dobbiamo essere anche noi quindi quello che noi siamo come chiesa come gruppo dobbiamo assomigliare desiderare di essere come la chiesa antica quella lì è il nostro modello a quello noi ci rifacciamo quella chiesa annunziava la parola che avevo udito da Gesù e la legge e i profeti e così anche noi citiamo tutti in più abbiamo le lettere degli apostoli quindi noi annunzia loro quelle cose le annunziavano a voce gli apostoli noi adesso le annunziamo perché le leggiamo scritte però stiamo annunziando le stesse cose che annunziano anche che hanno annunziato gli apostoli della prima chiesa questa è la nostra identità questo era il messaggio che io oggi purtroppo mi sono dovuto anche prolungare per esporvi in maniera completa a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli Amen